vediamo un attimo vediamo un attimo se siamo live ragazzi rispettiamo la notifica vediamo un attimo vediamo un attimo ragazzino all'allà 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 ecco live avviata ragazzi siamo veramente adesso live ci siamo ci siamo ok 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 aspettiamo che si riempie vediamo chi viene siamo quanti ne siamo platta solo platta platta vediamo un attimo ragazzoli vediamo un po la 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 ragazzi lasciate subito like a 30 like iniziamo e baffo perché la live adesso ragazzi per divertirci perché stasera poi c'è il torneo chiudiamo il torneo pure stasera ciao leandro ciao sonic ciao cookie ciao george salvatore ciao checchina assicuro bel like 30 e iniziamo è ok ok vai ci siamo ragazzi ok ok chi modo che chi dopo vediamo un attimo mi fai capire meglio te voglio condividiamo 30 like iniziam allora ragazzi vediamo se riusciamo a fare salire la live ragazzi poi se siamo pochi stacchiamo Io ho fatto questa live per vedere Di recuperare quella di Risira Ragazzi Diamo un po' Se ci riusciamo Siamo tre Ma non credo proprio Diamo un po' Sera Ciao Ermino Ciao Dennis Ragazzi vediamo un attimo se riusciamo a recuperare Dopo la ulla in testa Ragazzi abbiamo un attimo a vedere Ma mi sa che non apparebbe niente Gli dice uno spettatore Siamo sette Dai voglio condividiamo vai Condividiamo la live Ciao biscotti grande Ragazzi 30 like e iniziamo 30 like e si inizia Dai condividiamo vai giù Lasciate like anche con gli altri telefoni Andate tutto Lascia like e condividi Struzzo Vediamo un po' ragazzi Ragazzi se saliamo rimango in live Se no baffone il sacco e faccio direttamente intorno a stasile Vediamo un po' se riusciamo a recuperare la live di lì Vediamo un po' ragazzi Vediamo un po' Ciao baffone Ora andate fa bene E raga condividiamo forza Quando siamo a 17 30 like e iniziamo Mettiamo il primo codice Tranquillo biscotti Platta Fogli sulla platta Tu rotto tu Che chi condividiamo raga Condividiamo tutti Ciao buona Pasqua Ciao Safi Gamer Grazie E anche a te Siamo un po' se Saremo un po' Ma io 30 like e iniziamo Siamo a 19 Forza Sarei tutti su Fortnite ragazzi Meno male Meno male Che mi fa piacere Mi fa piacere Mi fa piacere Se vuoi giù Che ha detto Mi distorcio Mi distorcio Amore mi sto pazziando Ciao Melina Lascia un bel like Raga condividiamo Forza Grande Vaglio dai Condividiamo raga Siamo 12 Forza Facciamo la salista Così rimaniamo Dopo sì Dopo sì 30 like ragazzi Siamo a 21 Allora Subito vengo Vado a mettere Un ultimo Il link Grande cuore Ma raga 25 like Iniziamo a mettere La password Ciao biscottone Lascia un bel like Biscotto Siamo a 14 Ragazzi 30 like E si inizia Vai Stiamo salendo Vai Condividiamo Condividiamo Tutti Va bene Biscotto Ma ti metto Aspetta che ti metto Ok Ok L'ultima password Eppure Ragazzi siamo pochi 8 Va giù 8 Poco 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 E poi Poco Si riusci Ma recupera Jalab ارi E Wats Elie Mishri Ma si Poco ok così è sì ragazzo arrivato l'ira 6 1700 ragazzi password buffo tutto piccolo 30 sarà che iniziamo è un po se entrano gli altri diciamo ragazzi saliamo sta live raga password buffo vai entrate andate che co lasciamo il like ragazzi condividiamo la live sale la live alle 9 anche a 3 franci dobbiamo salire oggi dobbiamo salire 30 lecce avviamo sempre ragazzi sempre sulla tutti i server di buffo anche se siamo pochi raga sì biscotto sì grande vita dai voglio siamo a 13 dai condividiamo siamo 13 ragazzi come vuoi servire con te tenis vuoi servire con francesco sono da buffo e botto vieni a me fai a cazzo tenis voglio entro più tardi dai vai dai condividiamo siamo a 12 no c'è se è andata yeh pot che la cano tengo da città non vengo ragazzi siamo ancora a 4 ragazzi dai che cazzo è oh venite a giocare su fortnite grande sasi ti voglio bene raga password baffo vai rimettete ragazzi fatta ho sbagliato raggio rimettete la password vai sempre baffo vai sempre baffo vai sempre baffo come ti chiami su fortnite bro iscriviti al canale lascia un bel like attiva la campanellina vedi mi chiamo così bc trattino basso baffo 29 nubo fammi sapere se c'è instagram bro ragazzi 30 30 like avviamo bella bella ciao gabri lascia un bel like fratello allora bro prima di codice vedi che baffo iscriviti al canale lascia un bel like attiva la campanellina e gabri fammi sapere se c'è anche tu instagram come il ragazzo noob come sei tutta la playstation ah si è scritto bro mi segui su instagram ragazzi mi seguite su instagram se non mi seguite ancora la password è baffo ragazzi ma entrate tutti ragazzi siamo a 14 forza e ma come usati ma raga condividete anche nube gabri raga condividete la live forza tutti quanti insieme ragazzi vai a 30 like avviamo ragazzi siamo a 28 aspettiamo un po raga così facciamo entrare anche altri ragazzi ma mamma se no lo chiedi qua bro vedi bc trattino basso baffo più 29 mi chiamo eh ciao baffone ciao leonardo lascia un bel like bro condividi anche tu basta ragazzi dopo sto server tornate live che lo facciamo ovviamente altri ma siamo pieno di server oggi ragazzi pieno di server ma fu ne ha voluto fare della pazzia ragazzi vai siamo a 29 like raga leonardo di vendicare like a che ha a 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 Instagram Baffo Crew 21 proviamo a cercare Instagram Baffo Crew 21 raga cercatemi tutti anche Ahmed Maustod iscriviti al canale lascia un bel like attiva la campanellina e seguimi anche tu su Instagram Grande Gabri ragazzi entrati tutti al momento al prossimo server 40 like ragazzi raga fatemi sapere siamo 15 se ne entrati tutti Leonardo mandamela su PlayStation fatemi sapere quando posso avviare ragazzi frate ma eccolo salvatore ragazzi lascia un bel like e condividi ragazzi stiamo salendo vai vai condividiamo condividiamo ti ho letto Erminio dopo si dopo vediamo stiamo risalendo ragazzi dalle ceneri vai ecco si proviamo anche per le live in estate raga fatemi sapere se ci siete tutti si mi chiamo così sulla PlayStation bro mi chiamo bc trattino basso buffo più 29 denis è possibile perché la password buffo funziona sempre viene over da buff e botto posso avviare raga e dopo lasciamo subito un altro server a 40 like fatemi sapere che avvio quando le rimangono per la super chat pochissimo ragazzi poco 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 e questo dobbiamo spaccare oggi ragazzi oggi dobbiamo condividere la sewa giù che questa potrebbe essere la live proprio per arrivare alle ore richieste vai Leo grande Raffaele lascia un bel like e condividi grande Giorgio ci sta anche mento lascia un bel like e condividi anche tu dai raga condividete tutti ragazzi oggi è importantissima sta live ragazzi cioè ieri ho dovuto cancellare quella che è andata male ma oggi dobbiamo riprendercela voglio importantissimo così mi arriva la super chat e gli abbonamenti ragazzi tra poco e finalmente potete donare dove volete e potete venire a giocare i server con baffone ragazzi perché ma ripeto quando avrò le donazioni chi dona viene subito a giocare il server con baffone si può fare pure un gioco di partita grande Lorenzo raga avete fatto avete mangiato tutto a posto vai raga stiamo volando vai vai condividiamo condividiamo siamo a 34 like raga fatemi arrivare a 40 vai entrate tutti password tutti i telefoni mattia qual'è la password baffo mattia ma sei nuovo bro ragazzi va giù vai giù maia la nostra sera torneo chissà nel torneo cia facita mattia fammi sapere se sei nuovo mattia ragazzi ragazzi allora quando io metto le donazioni muovete faccio i server privati riempi se qualcuno vuole giocare con me la partita dona e io lo invito stessa cosa per gli abbonamenti si tra poco arrivo gli abbonamenti per il canale mattia si mattia come stai ha detto vicino a me baffone sta bene mattia tutto a posto pensavo che eri nuovo capì posso avviare ragazzi scrivete in chat se posso avviare vai prossimo server ragazzi prossimo server 45 like siamo a 35 vai ragazzi vai ci siete tutti posso avviare vai poi dopo tornate in live facciamo i prossimi server vai giù ci spacchiamo stasera poi stasera c'è l'altra live ragazzi non ti mate ha detto bene cabri vai ragazzi ma vi faccio sapere poi quando muovo troppo con le donazioni e gli abbonamenti come funziona in poche parole io sto da solo poi io metto riempi e gioco normale poi se qualcuno vuole entrare direttamente in partita e vuole fare pure più partite basta che con una piccola donazione a baffone oppure l'abbonamento baffone prenderlo in vita facile no? poi per chi non può donare dopo io gli serve più agici sta la creativa e le squad e il baffone lo invita chi ovviamente non può donare chi può donare invece entra subito poi sarebbe bene mettere si raga metto anche le emoji tutte queste cose qua baffo fatto baffo dopo controllo ok non leggo bene il tuo nome bro guarda qua aspetta eccolo qua vai raga siamo 18 vai condividiamo raga 45 like siamo a 35 condividete forza lasciate la canga con gli altri telefoni raga scendiamo tutti a cambi candidi tutti qua tutti qua tutti qua raga scendere tutti qua dimmi franci siamo solo noi il momento si devo aiutare siamo a 35 forza ma non è un attivo stai si 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 è in toto mi ci si ci vai vai condividiamo vai vai bravissimi siamo a 36 ha lasciato un ha lasciato tu è molto via via andare subì ciao salvatore napoli grande bro se è nuovo iscriviti al canale lascia un bel like attiva la campanella e vieni a giocare con noi ma sei di napoli sei il tuo cognome è così raga siamo a 37 forza è il tuo cognome sabato c'è instagram sa si siamo a 37 mai 45 abbiamo 16 però vedi l'ha scritto il mio moderatore e il mio id all'anno iscritto l'ho scritto ma non ti trovo è un problema allora non se perché sassimo dopo entro aspetta e ragazzi siamo 17 siamo a 37 like forza condividete 38 bravissimi ma che stiamo volando vai non la 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 bali di favela la 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 bali di favela nananananananana Sì raga Abbandono vai Facciamo la prossima Se lo dimenticavo Buttatevi tutti insieme 45 avviamo Se arriviamo a 50 è ancora meglio Allora Comunque ho giocato con Paolo Con Erminio Ragazzi password Ve la dico subito Password pizza vai Raga password Ce l'hanno messo Cambiamo password 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 mare vai C'è sto marfo C'è sto marfo Raga 45 forza Vediamo se mi sono arrivate queste richieste Ragazzi Eccolo qua Due richieste Raga raga Mandatemi sopra la playstation Perché su Epic non le posso accettare Vai raga password Mare Entrate tutti 45 like Avviamo Nove Nove le ne Bariti favela Mh 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 Bravi ragazzi Siamo a 40 Vai spammate ancora Vai condividete a tutti gli amici Raga Vai puntiamo Puntiamo Fare una Eh Ah Ragazzi a bere un attimo Se sta Canna in canna Bravi raga Già siamo nove Vai vai Password mare Ma io non puoi Sarà salvato Sotto fatti Scusate Sono abituato Alla prima Passo di buff No no E mare Ha sbagliato Salvatore Ma ci ma Sarme Ma me le facci Tu Sì Ma non Sarme Vai ragazzi Vai Ragazzi Il 4 aprile Baffone Si va a tatuare Braccio Ragazzi Tutto il braccio Grande Anthony Anthony Stasera Non mancare Che devi fare il torneo Alle 21 Vieni a giocare I server con noi Vieni a giocare Lascia Bella Che condividi La live Com'è bella Per i moderatori Attivi Ragazzi Siete grandi Tutti i moderatori Ciao Baffo Sono Nick Grande Nick Vieni a giocare Anche tu Raga Mettete tutti La password Mare Vai 45 Like Avviamo Raga Manca ancora qualcuno Perché siamo 9 Prima eravamo 13 14 Ma non sta Dennis Ci sono Stasera Grande Vai raga Entrate Entrate Tutti quanti Ragazzi Stasera E sull'altro Social Il torneo No 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 Dico L'altro Tennis O L'ho Che Da Vaglio 45 Avviamo No No Vaglio No Vaglio 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 ma ragazzi entrate finite di entrare vediamo a quanto a quanto stiamo c'è la idea lascia un bel like vieni a giocare con noi oh ma non si sta comportando malamento tenis è proprio un sporco grande manuele grande ma io ci sta pure manuele grandi ma io siete grandissimi grazie che mi seguite sempre a pure in questo giorno pasquale ci fatto bello periodo come ma ragazzi password mare vai e fatto video voglio che facciamo bevi posso dire con tutti i metodi come manuere poi condividere anche alla madonna se ci arriva la raga 45 abbiamo siamo a 43 e oggi forti con il like poco siamo un po più lenti con gli spettatori ma io dobbiamo salire dobbiamo condividere dai dai spammiamo con le condivisioni grazie di cuore nick pure io a voi raga che chi non spegnere amore mio non spegne ora non spegne la base su al domare vai si però l'ha accettata accettato la richiesta accettata tutti guarda dai ragazzi mancano 3 like 3 like abbiamo aiuto siamo a 40 anzi esitra e like dove atterramo ti faccio vedere mi metti moderatore nick per il momento devo levare qualcuno appena levo qualcuno ti metto granissimo anche ma perché sia c'è nulla uspulco che che la giravi c'è mamma risponde che sono da buffe bot ragazzi siamo a 43 ragazzi due like abbiamo dai due like se abbiamo ci siamo la bali di favela core per ammettere un bello ecco cuore 2 ora comunque mi ha contattato è un'altra tutta a posto ma ti spiego che ha detto non è che volevo stare un po' di razzino non è che stai mani soffrendo amore mi metto like vincenzino grande metti like ragazzi io avvio scendiamo tutti quanti qua e dopo facciamo il prossimo server raga però dobbiamo salire dobbiamo condividere forte forte stasera dai stiamo andando bene allora dobbiamo salire anche di speck d'ora ragazzi o monte olimbo o mondo sotterraneo o cupo cancello o piazza piace vai ah di qua giù vai prossimo server ragazzi 55 like 55 likes prossimo server ragazzi se ti faccio la storia sui stama se un grande se lo fai bro taggamiche dopo direi posto taggamica mi fa lo screen e ti da vostro a chi si con chi so con chi so cabrio stavo parlando con te live grande grande bruno a non sapevo che mi seguivi capito perché ultimamente non sta venendo è ma tu devi vedere tu a sacca tu a sacca tu baffuno che sei baffuno è inimitabile allora andiamo ragazzi a monte sotterraneo a mondo sotterraneo ragazzi siamo venti condividiamo vai gabriello se vuoi fare la storia già sai mi taghi ma tu sei un grande tu sei un grande sei un grande gabby mamma mi è scesa tutta tutto il server abbiamo ovviamente scendete tutti quante tackle uno che arma è stava in coppa a me la barca lo so Ehi, figlia Ah, è venuto chi l'ha, mannaccio Ma ci ha acceso un bagno Sto attendo che Grossquill Il qua che mi ha ucciso è forte E' del mio quartiere Vai ragazzi, siamo a 47 Grandissimi, condividiamo Bro, ma tu c'hai il computer Noob O c'hai la playstation Va bene, Vincenzo Si è ucciso, no, ti ha ucciso pure a te Gabri, non ti sento Mi ha fatto, sono caduto Ah, va bene No, va bene, forza Guardate, mi sono andato 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 Appena ho il PC Sì, raga, io se mi compro il PC Lo faccio il Discord Che dal telefono non mi piace Fammi sapere, quando hai messo la sola e ti dai posto? Sì, sì, sono andato anche al live Grande Che so, io sto guardando il chat dal telefono, capito? Ma appena ho quell'altro La riposto subito Guardate, non è tappunto l'ultimo Guardate, mi sono andato Guardate, mi sono andato Guardate, non sei un po' dopo spero di muovere siamo a 48 e 55 abbiamo il prossimo server vai wick cargo si chiama questo ragazzo un attimo il suo id forza da milano vai vediamo se lo trovo sul ragazzo grande george che ragazzo stiamo scendendo condividiamo dai va bene non riesco a trovare bro non mi è arrivata la richiesta tua capi noob ma tu non c'è instagram qualcosa swimming cargo vediamo un attimo e quale di questi e ce ne sono quattro di nomi così qual è il tuo numero capi guarda è il primo il secondo terzo quarto vedi un po ok vai fammi sapere tra cazzo stiamo scendendo ciao 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 il sole ora è lì ciao puoi seguirmi mi sono iscritto bro io non faccio scritto di cambio presenti vuoi divertire iscriviti attiva la campanella show bella che viene a giocare con me ti posso dare una mano ok quindi 68 quale 68 e bruno c'è questo numero qua non c'è 681 99 guarda non lo so quale bruno la rimanda tu quanti ne siamo c'è una tua neca vediamo ragazzi facciamo l'altro server condividiamo siamo a 50 quasi a 50 like vabbè la gama si suddivisi suddivisi e acquittiamo vediamo un attimo ragà noi quittiamo ragazzi bro ci vediamo dopo gabri e voglio bene grazie a dopo bacione ciao ciao te l'ho mandata bro non mi arriva vai 55 avviamo ragazzi ci siamo aspettiamo che rientrano tutti ragazzi non perdiamo tempo capisce ci divertiamo cerchiamo di scendere tutti quanti vicini quando si riempie server per questo dico se entrano tutti riempiamo il server facciamo pure tutta la mappa allora tranquillo quando c'è fatto la evo pomeridiana se vuoi passare per un macchimax piaci già sai fai server si leo sei nuovo fammi sapere se sei nuovo ragazzi vi metto la password nuovo a 55 avviamo password password napoli vai non la potesse nuove iscriviti al canale lascia un bel like attiva la campanellina e fammi sapere leo se c'ha instagram vai raga password napoli tutto piccolo 55 like avviamo guarda tu papera che sto faccio tagliare la coppia ah si un attimo i due parti d'ora ai 55 avviamo ragazzi siamo a 50 like toto raga password napoli vado a vedere subito bro vediamo un attimo dormi platta io sono platta ah Gabi non la posso vedere ragazzi che si fa no non si può fare ah perchè c'è l'account privato hai capito raga ma va la password fatemi sapere se va la password ragazzi che vedo che non state entrando la vita ho t'apposto ho t'apposto oh ma va la password eh a me va su ma va sono da partita però secondo me tanto quando in partita che tu questi subito io eh no tu hai quitato mi bambino è ovvio ciao bello ciao aurora ciao lascia un bel like allora password ragazzi le mo la mettiamo una nuova dai che questa qua non va napoli mettiamo vai facciamo chris o non si dicono queste cose ragazzi chris con la s vediamo ora se va adesso si olè ecco la giugia la storia oh baffo baffo che hai chiuso a dire questo che hai chiuso a dire questo è il cacca è un account picco avrei a bandare a bandare si metto i like e bandare si metto i like a bandare ah beh metto i like a bandare a account picco fai la pariata e chi ha o a gira sto l'ho sto password chris ragazzi ea metterlo la e farò se noi cadiamo e c'è le ci e e c'è le c proprio di quattro no ma ma ragazzi forza e la ragazza 55 e abbiamo aglio non so ci stiamo scendendo porcato l'amore stiamo salendo 6 ciliegie ti sembrava fake si sono più fake non ho mai l'exvaldo stai bene, è benissimo ah ma ti mangi a checa eh, mi chiamo Prevat eh guarda c'è città l'unico stop no eh ragazzi c'è anche Lucchetto grande Lucchetto è tornato Reitz, vieni a giocare con noi vieni a giocare con noi eh che l'ho fatto, fino a me ero 13 o 14 ragazzi ma non volete giocare più i serviti aspettami, niente che dicono, vediamo la chat che dici ti posso far godere bro ma tu sei un account fa che fa godere, che fa godere direi che non voglio il nuovo mob io ti chiamo tanto mob ti chiamo, ti chiamo, non vuole la chat che dici, devi mettere su io e te giocare la chat ti fai male la capa basta, ti chiamo pass word serie, ah, baffo, vai passi hai scritto che è caro, non vuole la chat hai ragazzi, pass word baffo, 55 avvia vediamo, vediamo se va di che sti pensi amore mi condivide i cucini tui, ah ma ma te, a vicino, non mi ricordi che mi si amma allora il sette no ma siamo a 52 ragazzi, entrate tutti che è brutto eh eh, hai scritto lo vado mi si trasmette le celle ahah 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 alessandro viderlo me lo ricordo per la sua immagine ma secondo me se non è mai se non ci fassi la tua non su caraggia nel 44 basso da basso il baffo fatto tu mi adatti ma la giuata proprio cnl vedate anche un magister city stasera e no l'arsenal baffo buongiorno grande giova lascia che condividi la leva a tutto il team siamo a 53 vai uova faccio aiuta a ruriamo siamo pari hanno la ruota secondo me siamo suon dai siamo 16 condividiamo quasi al 53 raga non va la password a vero allora alessandro ea ecco qua è lui c blu e non lo sapevo raga condividete condividete password baffo entrate tutti ma va la password ragazzi ah fino a me si è sblocato oh oh chi ha sbattuto come parla che sai se mi scrivi metti in te matto per 24 ore no no aspettavo fa prima si può essere la zona o se mi parla così bello secondo me ci dà affine l'ultimo esizio a 16 facci dai lo dividiamo forza siamo 54 buona pasqua anche a te a lei a te famiglia ragazzi vedi mangiato con calma voglio tutta una bella condivisione ma io ma sa di siamo messi bene ragazzi leizze che calessandro erminio gabriele la buca breccia condivise raga tutti quanti condividete ai vostri amici dai facciamo salire salario porca troia bastarda tuttana zocco ma frangelo più notizie del fn oggi ma per il momento non riesce a trovarle più luca ragazzi buona pasqua tutta la chat del baffone che caccia il popolo piazzi di popolo pica e raga siamo 17 siete entrati tutti bromo della mando ma mi devi dire ho condiviso grande ale raga 60 like abbiamo e facciamole birra un altro poi serve le siamo a 56 siamo 17 live tra di 19 mai così vi voglio avvia o da ricorda raggiungere ciccio gamer osanna e osanna e tengo allora d'ora tos facciamo così allora è stata sbloccata allora poi usiamo 21 60 la che abbiamo mai si sarebbe non anche il server siamo 15 dopo tornate live che dobbiamo fare altri server bastardi a così muovere no a giù o mette poco sanna e a mette poco sanna e più delle fremmette la vai coppetta net e raffari isola latrina ma diciamo 23 grandi raga password baffo entrate tutti se siamo a 56 raga 4 like abbiamo vai 4 like abbiamo siamo 16 o sanna e siamo te no no poi ci pensiamo ci pensi ciò di chi ragazzi siamo arrivati a 60 vediamo un po vediamo un po vediamo un attimo ragazzi siamo bloccati a 56 dai che voglio avviare voglio avvacciamo ragazzi cerchiamo di fare tutto guarda ora sei a non sei pescarsi ragazzi non assistendo direttamente a roma vabbè ragazzi 65 like abbiamo ma voglio andare nel server ragazzi andiamo qua andiamo qua tutti quanti qua andiamo a user usciamo molto limbo o se partiamo da qua gran ghiacciaio campi candidi comunque se andiamo sui pizzi ok però ragazzi dove parte pur ma dobbiamo andare in queste città tutti quanti insieme noi che ci dividiamo ai 65 prossimo server mi raccomando spaviamo di like vi voglio bene vai condividiamo se a meno una bomba raga questa live è importante più saliamo di spec che è più importante per avere gli abbonamenti e tutto a giù e la super chat che manca pochissimo a dovesciamo o lo che voglio tutti quanti a attano a tagodante tutti qua tutti attana siamo venti vai iniziare a spammare like di star live a condividere perché 65 abbiamo subito tutto un metro su anna e messi un coppia delle coppa youtube osanna e e ma che la norma non lecce a mette che lecce che vuole uscire ciccio che ma non ci sono ma non scrive ciccio che me rosa anna e che cazzo ci vuoi anche stocchi e barine bruno ci piace la canzone di ciò che ma anche se non è il tempo ma non so se non è l'uomo e bambini sono ma non so se non è il posto con il posto con la vita a un po' il trono l'uomo e il trono ragazzi gente c'è stata la mami su chi che facci wow no c'è pezza no andai morito che ci fai c'è no è molto baffo wow mami wow che kill bella kill l'ha fatto bravo bro no che chi non ha capito sono cazzettate che sta coppia la 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 mamma mia meno rispondo la 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 ma io siamo a 56 voglio te 65 like forza forza ti ho accisito il mio compagno mamma mia ma che chi l'ha fatto prossimo fattere viva nace oh mi sa saluto no le farò venire la tua amico fammelo conosce c'è fai complimenti ciao a rossa in un marico napoletano colombiano tengo il coso che non è umano tranquillo leo vieni live vedi che te l'ho mandata e giochi con i capi mini live però come faccio a cercare versione tipo quella da ti bro devi guarderà da mettere in down out tipo che spammano oppure dicono moviti o start se no se qua capi che vogliono solo giocare invece mettere devi nascondere quelli la che dicono le parolacce questi qua che vengono a rubere il cazzo ci ho lette bro la ragazzo ma 56 forza perché stanno a dissi se le due o la mise seduto o ero ragazzi ma 56 forza ma perché stanno a dissi se le due il il l'apparato poco a rinchi e di bambi io sono una cosa non sono un cibo ma io sono un po' non vado a subito ok ok dc l'addonso quanto miglioramento la ecco allora ma roppo torniamo non potremmo farlo capi? che si tratta di questo discorso non hai avuto un problema che ha lungo i malamenti e poi ho detto come finiamo capi? stasera è nuovo capi? a presto grazie ma ragazzi siamo a 57 vai bravo bravo osanna e osanna e osanna cristo signor osanna e osanna e osanna e no ragazzi direttamente dopo i cento la creativa osanna e dopo i cento ragazzi si lo puoi cercare bro osanna 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 ragazzi vediamo l'ultimo fight e poi usciamo 110 di solito facciamo a 110 basta 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 ci è avuto male dai raga condividiamo siamo a 57 forza raga raga infatti abbiamo iniziato ad uscire perché purtroppo i server si stanno allungando gente che non ho visto se era giova giova la prossima volta ragazzi ci andiamo tutti vicini ma quando si deve il server 30 persone 25 facciamo tutta la mappa allora vai password cambiamo raga lasciare like 60 like metto la password 65 abbiamo vai siamo a 57 mettiamo sti 3 like vuoi amore dimmi ma la mettiamo vai raga condividete siamo a 57 like ok osanna corromia lo sai mi è abbandonato ma non non c'è buona pasqua lì non c'è una volta da te famiglia ci fatti un periodo live ecco eccolo grande andrea dai cazzo su dai dai condividiamo dai dai andrea condividi noi quando mi sento video faci un video no ma non mi sentite non mi sento però che hai la sua vasi ok tutto sentite e mica la tua voce saSpace no ma non la senti di live ma solo la live eh però pure la sua vasi ho il password, vai raga, password Sasi 65 like abbiamo, eh, pronti, vai faccio mandato, provo a causa grande coro condividono poco coro, prima cadono mai e poi torni, tu torni sempre ora c'è dedicato la password, eh, c'è dedicato a dopo coro c'è la mamma sta chiamando Cristiano, eh eh, brava, vedi, chiam, vedi, ma che mi fai? hai detto baffo, che mi fai? ho detto baffo, che mi fai? ho detto baffo, ho detto baffo ah, ho detto baffo ah, non stai, sto a tavola password Sasi, ragazzi, entrare tutti Sasi con la Y no, no, Sasi con la I ma che cosa? Ho fatto il tennis grazie Ciro, anche a te e la tua famiglia buona Pascua ah, ah, ah ah, ah ah, ah ma, ah, ah, ah ragazzi, password Sasi, vai hai detto baffo eh, la c'è la qua, la c'è la qua la c'è la qua ma, ah, ah, ah ma ci mi serve il privato e creativo fino in nuovo poi, a roba in nuovo, fa un coppa tic tac bravo eh, ragazzi, lo farò questo video mi piace questa cosa che ha detto Melina sì, Meli, mi piace, bravissimo lo farò questa cosa vorrei rientro appena torno va bene, Chris, condividi pure, già sai eh, ci sei nulla eh, ci sei nulla Dennis, vieni dopo va bene, amore, a dopo ti voglio bene come stai, mi senti sciù? non credo, la seduccia, signora sei una grande capo lascia un bel like, capo mi ha mandato una quale la cosa con me è che non mi sta buona baffo, vengono un vento la dici, guarda che abbiamo agito prima la faccio due cacchie, ragazzi abbiamo volato però i spettatori siamo un po' lenti oggi ma 60 like eh, siamo al 60 già metto un like con i doni, i doni, i mammi, i pad, i fratelli, i sordi, tutto la tavoloide, eh a chi? a Cristiano eh, eh, eh ehm no eh, devi cercarli, capito? devi cercarli, mentre sei live eh, ok aiuto, ma non va la password, perché non vedo che entrate, ragazzi faccio un salare, sei faccio un salare faccio un salare, sei faccio un salare, frà se non ci metti, che giù a me, tu e a non a me non eh, è più ciò, tu dicendo ah ma, oggi si, si sbaglio che è ma è lo sponsorizzando, voglio farlo eh, non ho fatto eh, ma la va fatto eh, ma non è puoi di sponsorizzare eh, ma tu non fai mai come tutto quando? to' tagging da soli tra sito cosa a crei di scuorna anzori insomma anzori insamo ragazzi password oggi oggi 65 avviamo è bravo messa tagga mio di posto e dico seguite dottore però metterà sono cali un mera da voto metti scuorna di tutto cosa è che ho pensato prendi l'intero sia mettere link oggi 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 ma non è possibile ci faccia sanarine si servono tutte palla stanno entrando raga password oggi oggi vai entrate oggi nocino cg a gg lo trovo che fa nato pirtà già fa magari avesito seguono qual è la password ragazzi oggi oggi perché siamo pochi c'è non lo so ragazzi entrare non ho capito che siamo pochi ma si fa sento un canale ma fa fuori eh ma di qua mi fa senti sembra avuto la ferma la password è oggi oggi ma può comprare go 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 super certo quando mi ha girato poco fa di navi in d'anni oggi oggi ragazzi ciao brosa mi mandi l'amicizia di donna 10 no 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 Allora bro, se doni 10 euro Te la mandio a te e ti viene a fare la partita con me Peppino, stavo mutato ragazzi Scusatemi Paffo, ci vorrei cercare un secondo Ti metto a solo che ti taggo Con la ti seguono sicuro Mi ascoltano sopra Instagram Ragazzi, chi è nuovo si deve iscrivervi al canale E raga, mi dovete far sapere Se avete Instagram Sia Lume Vex Peppi, donami 10 euro Ti viene a fare la partita con me Ma te lo faccio spammare dai moderatori Ragazzi Te la mando io a te la richiesto Che ragazzi Chi dona Paffone deve giocare insieme a loro Ragazzi Ma va la password Fatemi sapere ragazzi Se va la password Paffone Paffone Hai ancora? Instagram Ehi, te la città Ti taggo mi coppa Instagram e te la hai posto E ti faccio seguire là Ragazzi, cambia la password Se mi mandi prima la mia città Ti do no 10 euro Eeeh, ti do no 10 euro Ti taggo a creare E lì come ti chiami Io non ti faccio Noi, ti do no 10 euro Ma tu non so Mi fai peppone Ma io non fai a me La password Non funziona Ma io non fai a me Che io ti do no 10 euro E tu hai un po' Se mi fai a te Nel tempo Ma tu no è Ma tu no? Non mi fai Ehm Ehm Deniz Ermini Io C'è Ma proprio Non fai Non fai Non fai non funziona ok mettiamo se non fa manca pizza per piacere ma non va è buona dimmi Giova ah perchè qualcuno da una pizza da una pizza come chi cazzo è da una pizza? come passo? ma annaccia la miseria ahahah 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 password ahahah ragazzi password coca ok password fuse password coca ciavaro ma c'è la fa la duper ma io arriva oh oh ahahah assurdo assurdo ciavaro ma c'è la fa la duperda ma io arriva ahahah 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 ma io siamo a 64 forza 17 ok ti ho mandato la richiesta dove me l'hai mandata? sopra la play peppy peppy mandamela sulla play la richiesta perchè non la posso accettare sopra Epic capisci ho troppe richieste da accettare non ti trovo come come non va lumen siamo nove di noi stanno andando baffati c'è il papa è buffato tututu vedo la buffa e bot te la mando io allora dimmi come ti chiami te la mando io vai baffo il prossimo serve puoi mettere nick si dove lo metto vai siamo 10 vai ragazzi vai ospit ludo z vediamo un attimo allora ospiti ludo ospiti ludo 21 21 ragazzi non l'ho trovato ospiti ludo z bro non mi esce poi ragazzi siamo a 65 forza 70 like abbiamo eh amora mio e che già te l'ho mandata l'ho mandata l'ho mandata già vediamo auto 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 sto vedendo ragazzi si me l'ha mandato che cosa che cosa ma fai bino viti qua ti trovo zurego qui c'è però c'è la luce c'è c'è eccolo eccolo l'ho trovato si raga la modalità riempi no 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 startiamo ragazzi ma sto facendo entrare gli altri ragazzi sì è ero 65 siamo arrivati a 65 se arriviamo a 70 così siamo più veloci per dopo password abbiamo detto coca cola che coca tu hai visto lì? una figlia capisco lì? soffereno, soffereno che cosa vuoi? guarda tu non so tutta? no, che cosa? non è zaffo serio meno male vuoi capito? per bannavano proprio Cristian scrivi vai raga, password coca no, quale coca è ragazzi non fate abusi di queste cose non lo scrivete neanche guai, io mi faccio un cofine di Bob Bob, quanti Bob mi faccio? eh Bob Marley ti fai tu a fine artista se accetti ti do o no? bro, già accettato già accettato la tua richiesta vuoi corre? avviare eh ok, 5 minuti stavo per avviare 20 secondi guarda, guarda come scarica guarda ma chi? ma chi? ma non è il Bob? oh vieni che è di agosto quanta neve che cadrà ma tu? come? hai troppi amici? non ce l'hai no bro, ti ho accettato no, bro, ti ho accettato ma no, no, no no, no aspetta un attimo sto bene oh ragazzi, ora vi dico io dove scendere eh ragazzi ragazzi, tutti quanti a Monte Olimpo tutti qua ragazzi, non vi dividete questo tema a Nick ma ci provo a vedere l'ho accettato ma ci provo a vedere l'ho accettato? non ci provo a vedere non ci provo non ci provo a vedere ma non ci provo a vedere tutti i scemi, ciò che merda ma non è un po' come cosa c'è io faccio la mia tutto per le richieste non mi fanno le scelte ma tutti soli guarda va oh oh ma ragazzi iniziamo a scartare come non c'è essa un attimo salutare a Nick non ti muore eh già e raga siamo a 66 prossimo serve 75 like nick mi senti grande tutto bene tu come stai sto accettando un attimo questo ragazzo sulle scattore ma io già l'ho accettato ragazzi si infatti devo eliminare qualcuno però dico già l'ho accettato mi piace e andate ragazzi l'ho accettato come è possibile voglio a me mi diceva l'ha accettato che non ci sta non ci sta e salvature ah non so vai giù grande omar voglio tolare anche omar siamo a posto così grande lascia bella i comar puoi mortare anche nick a ben il cammino parliamo troppo questo è quando giochiamo a baffo ragà potete vedere voi andare un attimo indietro nella live quando stavo cercando a lui che mi pare che è andata l'accettazione alla richiesta ma lo so e io l'ho accettato all'onio ha invaggio che non l'ho accettato a lei è ok allora devo arrivare qualcuno su batman passano con usciti amici che non conosco va bene a dove amaro ci vediamo fra mezz'ora io ho questo ragazzo e non l'accetto proprio per questo perché do spazi a chi c'è il computer sulla epic capì mi ha capito portare che c'è sulla play ecco qua ospiti oh hai troppi amici ragionato la amicizia mo cacchi da mollo dimmi che è successo io ho attaccato dopo che sei attaccato apri un orologio e ho detto che sono le 3 e invece erano le 2 erano le 2 cioè erano le 3 ah erano un'ora avanti ai ragazzi baffone ha fatto live fino alle 3 liri no ma erano le 2 ma erano le 3 perché è un'ora avanti infatti io ho detto mio mamma e mi ho detto mamma ora è un'ora avanti ancora ci vedo più presto è un po' impossibile accettare l'invito come è possibile accetta ho levato tre amici ho levato ragazzi dimmi bro ci faccio e dici ma la tua patatone lascio patatone ciao ma fuori le gioiei lascia un bel like quando amici insieme volevare per la cappa nostro ragazzo un nuovo amico ma fuori ma fuori ma fuori mi piace per questo l'invito nico ma sei dalla sicilia eh ah quindi sia come biscottino come luigi luigi pure siciliano luigi 12 ma lo conosci ma lo conosci ah finalmente ragazzi lo accetta qua ragazzi ma 67 eh vediamo se sono tutti vicini ma poi ma poi che cambia tra l'aranca ed e quell'altro c'è quello normale no niente però si e raga ma abbandono infatti ma raga siamo a 67 eh 75 like e avviamo il prossimo server Sì, mo la metto Sì, oggi visto, oggi visto Raga, esco Nick, ci vediamo in live Capì, Nick? È uscito già Ok Tutto Ragazzi, siete tutti in live Vi metto la password nuova A sette una like la mette Siamo a 67, ragazzi, tre like Tutto Aspetta Allora Ragazzi, se Peppino ci dona Baffone lo invita a giocare Vediamo un po' che fa Ragazzi, siamo a 17 Forza, forza, condividete Condividiamo la live, ragazzi Amore Amore Una sera Ma non stiamo già lì Non stai disteso Non stai attendo a tracotando Ma si fanno qui se va a privata così Però Che insomma Manca tre minuti partiti Ma sei? Tanto mi fai proprio se partite Che è una città sembra Eh, faccio la partita Eh, faccio la partita Purtroppo che dobbiamo fare Questi sono i server Ragazzi, allora 70 like abbiamo Siamo a 67 Forza Ma il suor di Nick Eh, Nick mi metto N, I, C, K Ehi Allora Allora Vieni a fare E io Ah Vieni a fare Plata Vieni Ma solo Plata Oh Plomo Alla La 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 Guarda prima Faccio il mio caffè Faccio il mio caffè ragazzi siamo per lo metto per la coppa di tubo a famosa di va quasi ticini la visualizzazione quota vita la via quasi 40 ore video facciamo facemmo una video copyright continuiamo così no grazie ma raga password nick password nick ragazzi 70 like forza 70 like che abbiamo dai cercando a me danata verso un mac boom rim poengo di coro copyright a non se se fare visualizzazioni non guadagna capi anche guadagno di un appagio tubo e moviamo ma c'è appena faccio le ore si guadagna pure dalle donazioni solo dalle donazioni no vuoi pure dai video ma guarda neanche dalla vina si guadagna si va vai password nick e di che nick ti voglio bene lo sai a spesino si non trova davanti condividiamo aspetta aspetta che ha spesso tra senendo mi darà lui qua animo anche fumo la zona lalala late donna un po' di sigaret che ti ora ma come nevo c'è uno basso di nick la sigaretta elettronica non mi non va sai sai fammi un attimo se vuoi Nick vieni un attimo a vedere che vuole Peppe non buttare vieni la password Nick se stanno dai che avviamo ti ha donato Peppe? e ora vediamo se è dove c'è bro oh beh oh bro mi senti? si bro ti sento grande lascia un bel like e vieni a giocare ma io l'ho già lasciato il like grande grande io sono un big fan ti seguo dagli inizi ma sei grande Peppe ma la donazione a baffone non la fai allora da quattro mesi frate ti seguo da quattro mesi eh ma la donazione a baffone non la fai ti ha invitato ti ha mandato l'amicizia eh ma mi dice il saldo insufficiente po ma tu dove non c'hai che non c'è l'account per i polli eh no po che ho? eh che ho fatto? che ho fatto? che ho fatto? che ho fatto? che ho fatto un po' qua non ce l'hanno non va ragazzi la password vabbè ma bro io sono contento di giocare con te almeno anche se non posso donare a me va a sperare al bug non vi muovete a sperare aiutiamo se è vero no ma non c'è amore mi e bazzucchi bucchina l'ha riuscita che se la la città c'è chiamare la rende a dica si coppa la coppa Oh, che è qua? Che è qua? Che è qua? Guarda qui, Gaito. No, perché non è rispettoso, capi? Perché Gaito ha donato cose. Allora ci ha vittato tutti i anni, capi? No, io sono chiuso. Vabbò, Gaito, ti posso donare, eh? Ah, ho la la mucca. Vai, il password, vai. Ehi, password, nicca. Ok, si affumano, guarda, ci faccio in battuta. Tu le vinguri, Alicine. Eh, la c'è, ci mi sicuro, Alicine. Ma, Gaito, ma Gaito, ma Gaito, non fa niente che io non posso donare, a meno questo è l'importante che posso giocare con te. Oh, mi la gioca in da gradi. Ah, Gaito, perché non mi va? Io ho messo la password, porca la troia, perché non va? E ti scambi, sicuro. Ah, finalmente possiamo andare, vai. Fatto, frate, ma vai lo mettete, vai, password, nicca. Vai un 70 like, avviamo, eh? Vai, due like, ragazzi. Non ho messo la tua, potentially, perché non lo hanno fatto molto bene. Oh, ma se uno mi ne ne ha mai la tua tua, oi c'è lo so? Si, è sempre proprio. Nooo. Un piro, a me uno parla così. Non lo so. Non lo so! Poi, se arriviamo al 70, ancora al 75, ancora meglio, eh. andiamo più avvantaggiati per il prossimo coci e io qua non mi fanno è andato a nascere e boh ma fatti sceme che tu io ti do una paura non ti posso donare però a me mi fa piacere e io ce l'ho asciuto ho detto Peppe non ti muovere non ti muovere Peppe e sta asciuto ma guarda che lì si fa questo grande grande no mi vai 75 ragazzi ma già siamo a 70 bravi bravi grandi ragazzoni bravissimi tu Romi Fioretto ma che è? fai pure tu mi diamo casa diere ma tu ah sì ma io tu stavo facendo pure mi diamo casa diere ah boh comunque c'è l'argi guadagnati i video di 30 euro con po' vidimi pure io mi ha fatto 700 visualizzazioni 700 mila hai già sentito a chi stai spiegando hai già sentito a chi stai zitto è che c'è ovvio lascia zitto zitto si bravo ti sei zitto ma lascia un bel like e vieni un gioca si è ben buono e beh ma che te ne è beccioso dici ah sì zitto io sono sono un big fan ti seguo ciao Matteo lascia un bel like ma la donna c'è ti seguo da 4 mesi la donna c'è la baffone non la fai la donna c'è la baffone non la fai mi dice se è stato insufficiente ma mi dice è stato insufficiente può fare chi li rira non so razziste ragazzi vuoi chi tocca la tabella oh ti metta le mani vabbè fai non lo so no se tue te fai Considering non è perchè adesso eppure di me è assazione pregi con all'ora anche i miei genitori ma ce l'hanno sono in amicizia ragazzi sono dei fan vabbè ma poi io sono contento di giocare con te siamo a 74 vai un like grande raffaele fosubizzi raffaele manuel è la stessa cosa fosubizzi pure tu ma io voglio condividiamo siamo 20 non sto murendo oggi non sto pisciando sotto no ma tu avrei che l'ha scritto prima Lorenzo o sei chi neri e bada aspetta stanno trasendendo altri ragazzi sei trasendendo un ufo nel genere grande ma te lascerai grande cocco che con lasciarai che condividi pure a francesca vincenzo cat ma fossi ho più forte l'omuno ragazzi vado bene vado a tutto quanto oh vici vici senta a me no siamo a un'ora e mezza di live già siamo 80 like a mezza cosa mi puzza mi state facendo recuperare la e brariero vado giù marate marate 100 mila baffone vi ama tutti ma io non ho manco un ufo non ho manco un ufo non è poco ma io è stata una ufo la live ma io non ho manco un ufo non ho manco un ufo ma io non ho manco un ufo ma ragazzi siete entrati tutti ma con il fruco come seguito mezza e tu sto dicendo devi fare quello che ho detto io devi andare a mezza ma non ho manco un ufo ma non ho manco un ufo di Instagram non ho manco un ufo di Instagram e fai morire ma è tutto in una finzione vado a morire oh no bravo amore mio e non muovere ma 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 non muovere e mi dice e comunque tene la faccelò oh non la ruola la dene seguitate seguite ragazzi è ridissimo buon ho chiesto seguitelo ragazzi è del mio quartiere ecco qua ragazzi siete tutti posso avviare ragazzi le va la storia non lo seguite lascia un bel like allora ragazzi mattina melis bro iscriviti al canale lascia un bel accattiva la campanellina e poi entrare anche tu nei server stessa cosa anche in berlino ora da buffo e botte a compiare una passata un bambino a chi è mattia fammi sapere se c'è instagram una mese fa un stesso spazio mattia fammi sapere se c'è instagram stessa cosa anche berlino ragazzi siete tutti posso avviare faremi sapere se posso avviare ragazzi sentite di nuovo sono passati 8 minuti baffone abbia dieci minuti e perciò ragazzi dovete aspettare che stiamo un attimo facendo entrare tutti i ragazzi per fare il server più grandi passo mamma fai tutta la mappa quando muovo a risposta puoi salutare rosario bella un bel frate grande frate morosa un bacio uno passiamoci a il prossimo server il prossimo server 90 like vai siamo l'ansimo vintiro non può mettere su agli un moderatore e chiamo piano piano faccio pure a lorenzo sta seguendo sempre lorenzo ragazzi voglio sapere mattia se mi segue su instagram baffo più 21 bro mi devi seguire così rimanendo su tutte le live di tornei o di sé che faccio matteo gatti se mi seguo anche lui su instagram e beh ma ragazzi ok mattia non ce l'ha le regole fermo ai tolorenzo ok mattia non ce l'ha le regole fermo ai tolorenzo l'obiettivo era arrivare a casa il 10 ragazzi scendiamo tutti quanti a rotaie raga tutti a rotaie tutte a rotaie fratomo veneziano saluto pure a fratomo veneziana matteo non ce l'ha messo attiva la camparellina e quando faccio i server creativa squad entra live da baffone che ti diverti venerdì sabato e domenica siamo live sempre ragazzi settimana prossima facciamo il devasto con i server e le creative ragazzi stessa cosa pure berm fammi sapere berm se c'è instagram che importante sono a fammi non posso piacere affatto qua a lui ma che hai fatto tu che c'è chi non c'è un bar amore ma ti domani dove stai? a chi dove sto mannacce pokemon non c'ho mai un pompa ragazzi mai c'ho il pompa ci sono una faccia fino a ci fanno curare marci fanno cura ora forse era a cura cura procura cura cosa tu fossi lasciato è quasi povera merda tec di vizio d'amore tu tec di vizio vado a moda che gara mamma mia grande è nicola ma io siamo venti siamo quasi 1710 e noi ma facciamo cura un attimo su domanda trada raggi trovato all'armo c'è non c'è nessuno e vado pure se ci vuoi con uno che te ne ha dei viti ah mi ha ucciso romi ragà grande ne senti un'altra come però samu gaming e manu ragazzi iscrivetevi attivate la campanellina e ragazzi seguitemi su instagram perché qua vi divertite che baffoni ho sempre che i fan pariamo ci divertiamo scherziamo battute fammi sapere se manu e samu gaming hanno instagram in chat ragazzi aesce beva aesce bella che condividi pure tu bro o ma quando sono o ma quando sono o ma quando sono samu e manu e ragazzi ci siete la i po ve ne siete andati ragazzoni ma come si è visto è molto ci sono uno è viva è ancora viva ma mamma mia che faccio come zara che sei davvero tu amore ci sono rezzo per nix 03 grande sa move a me seguire baffo più 21 ragazzi seguiremi su instagram così non perdete altre live di baffone tutto quello che fa si alesi come una bot ragazzi password la creiamo seguiremi su instagram baffone 21 ma siamo mandati segui così non dipende nessuna live stessa cosa anche emanuele ragazzi seguimi cosa c'è una cosa lorenza la bomba sono morti a capare mi sapere abbiamo anche il gruppo whatsapp chi vuole entrare anche nel gruppo pro e privato whatsapp e baffone come di gamba a sicuro siamo le navi da baffone 21 samu vedi della città il mio moderato c'è chi non lo fare magari amma giocatore ora mamma metodo trasendo di me baffo maro tra si do di farne bette du po oh oh a poterete con mangio a sicuro e noi siamo 81 e 90 like abbiamo il prossimo e faremi sapere se avete instagram in chat e volete entrare nel gruppo privato whatsapp lento 21 siamo fanno sapere si metruata vabbè così mi faccio proprio che si dissono rossi finisce uno asima è ma deciso produttivisci uno frate mamma immaginiamo di poccia ma sto tu casa oggi a voi di farla ai barocchi ma partite tac questo la faccio paio di brano battaglia da me oh ok amo questi qua stanno un po rapati per finire di fare lo sport ma quando cioè ci ma quando ci siamo 22 voglio condividiamo dai quando fa guarita modi si coppa tagherni di sanne vado chissà per dire abbo prova vado di capisciato stessi che è ma un po c'è però che c'è a te stessi guarda con buono poi diciamo che non siamo 82 like siamo raga 83 ora grandi al cilino ma la cilere si due diritto ma ha sparato sparo ucciso ci siamo ma giuato a cazzo tati chi si è senza cosa ma dove si può donare come bru se doni ti viene a fare anche una partita con baffone fu ucciso ucciso mamma giuato è vincito ah no sono ad2 ad3 questa partita ma guarda solo perchè sia c'è un abuso ma voglio una trano a giù mi piace tu con il magnifico ti conviene vedi bro hanno spammato il link per il momento solo per bullo ragazzi settimana prossima vediamo un attimo e se noi abbiamo la super chat attivo watch per i dammi agi citati i ragazzi quindi non c'è nessuno che vuole entrare nel gruppo privato whatsapp in chat assoluta viaggia 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 nico contattami privato te lo mando vincenzo nasso vince tu mi segui su instagram fammi sapere se mi segui bro te lo mando su instagram nick stessa cosa contattatemi ora ragazzi che ve lo mando e ve lo mando stesso ora stessa cosa anche ale fammi sapere alle se mi segui su instagram così trovando pure a te baffo più 21 ragazzi mi raccomando seguitemi la sua baffo ma gira baffo ma gira baffo ma non guardando a me guarda da qualche modo ecco qua mi ha seguito alessio baffo non guardarmi guarda altra persona che ci avrebbe stato ok dico baffo ma gira baffo ma chi è l'ora c'è l'ora c'è l'ora c'è l'ora c'è l'ora c'era vincita la macchina distesa ecco qua ragazzi ve l'ho mandato è manca solo vincenzo mi pare siamo 83 ma secondo la gioia che stavano a distese ma mi senti che abuso agio ma proprio di un favore di un favore con maro non sono distesa che lilla evitando i piccoli 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 e voglia di preoccupare stato d'olore tutto tutto il brutto dopo una grande partita da una copertillata annaccia miseria ma annaccia ha dato il nuovo a chilo ha scoperto lato destra è fatto un errore proprio alla rack manica a tutti i gemini sotto raccia la miseria mannaccia bravo bravo complimenti a totore complimenti a giova allora un attimo abbassi a bari e sbagliato di scherzo si vuole si muovere bravo ragazzi password nabbo la dedichiamo al salvatore per questo errore dopo una grande partita passo drabbo ora già cannava cascina greco al salato attima leonardo attima leonardo stavola in casa non sono in casa tartaruganingi con le armi precise mai con le armi di qualche arte la tartaruga passo drabbo ragazzi grande che china e la gano vantala e cambiamo è passato si mette porta il boom ma guarda insieme a me guarda insieme a me giova si mette forti si mette forte ma non devi accettare la sconfitta allora ricorda di che rione tra la mia parola destra allora devi 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 essere rispettoso a tutti il nostro quartiere lo sai come è fatto no ma la palla destra è ma devi devi rispettare quando si esiste mai si facciamo la creativa più tardi e abbiamo appena iniziato sono solo due ore di live dobbiamo fare le altre tre ragazzi dobbiamo anche dire che sabato restava da solo sia giovanni che alessandro e poi ha sbagliato che sabato le poteva fare meglio mamma mia mamma amici base a capa al suo drabbo entrate tutti forza 90 like start a mi ricordo giova più o meno ciò va posso entrare in lobby con dei ragazzi facciamo la creativa tutti insieme capire i ragazzi 90 lei che saltiamo forza siamo 84 sono solo a palla ciao ma fuoran da antonio lascia bella e che tu stessi dj è volato è volato cecchino lasciate rike su grandi ragazzi aspetta volato cecchino in poche parole ha detto giovanni e non è avuto la cecchina d'attato cecchina reda capi e si morto giova per piacere giova non diventa il più amore mio valore fa come me va fuori a finire di mangiare ci vediamo più tardi a dopo dormi buona buona pranzo ancora buon pranzo manu grande manu manu appena arrivato mettete la ecco aggiungo grande e chi non è di sciattiva e quattro cd siamo otto che sta succedendo ragazzi stiamo scendendo un sacco ragazzi che è successo all'improvviso invito al parti passo invito a varenzi ok però pure lui è forte ma io c'è chiuso più forte a buono no avvamo è dopo donna tenera lai nella live che facciamo l'altro serve knicks mettiti online sopra la prima lei posso giocare come bro come che puoi giocare tutti potete giocare che è scritto tutti i ragazzi che fanno il baffo non puoi giocare sono amico ma forse sono mia e simone di ceova ma io siamo 86 forza forza ragazzoni e ma via amore mio sto facendo altri ragazzi così siamo di più non è parte casi chi lascia la fa una parte che bello caffè sono tutto rosso fa bella al pubblico di manca buffe varo sabbia né sabbia chiamarosc come faccio a giocare lorenzo che così guarda allora allora di scendere così o non ne abbanna non devi bannare è un fan mio mi fai perdere i fan ma fine che non potremmo in modo e devi guardare come fossi uno bianco allora ragazzi siete tutti posso avviare ragazzi siamo 86 mancano 4 like via stanno tutto quanto poffi e c'è che desiderai di essere tuo amico fidato ma che hai visto che è un hat bot ernik si è a e lorenzo ma fu un vero ragazzina super chat così ma buono istante grande luca di voglio bene assai bro nette ne cuffia lorenzo non è te siamo 86 quattro ore che abbiamo e quattro like ragazzi ma non c'ha più da squadri spero un capito a squadra che si goda non ha voglia abbiamo perché messi a sila e però ma parla subita e like di chiara oppia 95 ragazzi vai abbiamo prima ragazzi siete tutti posso avviare scrivete in chat ma perché stavano era guardata scemo avviata abbia a 7 minuti a b ok allora devi scendere qua sotto fai chiave personalizzata metti password nabo qua nel codice a bar accetti e metti pronto capito a via a vivo è vero come fa stessa ok posso avviare vai a niente allora è tu sei uno di voi ragazzi prossima server 95 di cui ci penserà salvatore lorenzo lorenzo ma non è se a capa che l'uomo a testimoni di chioma come un cazzo di ammissi e non va i brothers ma su soli ragazzi e nemmeno tutti a campi tutti a campi candidi ragazzi tutti a campi di qua non dividetevi c'è come siamo qui come si chiama di giova come si chiama è quale ragazzi tutti a campi candidi bravi ragazzi tutti uno due tre quattro sanno attuane siamo 15 ragazzi a a e che e e un po' 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 aspettiamo la mia sua attiva in fight è eliminato il mio amico adesso lo vediamo io devo provare che la non sono pure in gioco ma sono tutti i mi Jazz i ragazzi sono là è vero un po' più come si regalm park tutti quali sono usato a te ok ma mi ha messo a un po' ma sono i tuoi amministrazioni adossando il tuo posto i deco ciao baffone bravo baffo si sta eh ragazzi ne sai bene non gioca mai bene perché purtroppo devo guardare la chat poi si vince da tavolo come sia il viso è nata su una tavola dolore ma chi sei no 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 è lorenzo ha fatto a posto dopo a dopo nick grande vincenzo non voleva lorenzo lo devi fare i veri fratelli lo fanno no no eh ma è una volta da ruba e ma vorrei si sento lo che fa tutto è il vostro stessa parte no no hernix coppola coppola si chiama il live ora tutto da baci è così cagliato di storezzo butta di per piacere ma quanti ne siamo ancora 10 ma stanno qua sono nelle vicinanze a bocciano e poi c'è capito il senso e non lo so lo so ci stanno dimmela baci no no non è morto sacco al sangue luciola giuola sacca baffo giuola elix elix amena c'era che sto qua nella città brutus non è il senso per favore la mia città ma forse guarda la città la città pari morì sono qua giu non ma con la chissà la sua vita o esso non è questo gioco a distanza dopo gioco a distanza Oh. 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 Gatti Gatti, adivis, adivis. Certo, non sai cosa? Certo, non sai cosa? Galù, tu devi trovare il bambino, ah! Vieni, tu devi trovare l'unico, ah! Tu devi trovare l'unico! Ah, non lo riesco a trovare l'unico! Tu devi trovare l'unico, ah! fascia nel frattempo questa live arrivava a 95 subito che startiamo il prossimo server o agli ma tutti quanti non credo tutti quanti sono solo loro tra votante sono loro caro ecco la buona acqua guittiamo soltato lui ha sentato lorenzi ragazzi vai 95 avviamo è e però mamma rimane a 95 condividi da ci avviate prima vabbè non mi dà ci fa da settimana giovanile non mi indagano eh non mi indagano da un buon giorno ma ci racchi di cui oh, è che in gana, è quello di giovo ma già si fa ci sono in casa eh no, è il gioco ah la 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 che è il gioco? no, è il gioco di Lorenzo bro, esiste la parola condivisione tra l'altro stiamo arrivando a 150 like ma che è sto scema, non mi senti parte ti ho vendicato, sai e ci sa ciò ma e ci sa ciò ma ma si ci sa ciò ma siamo 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 87 ragazzuli grandi vai facciamo vedere che facciamo vedere agli altri che non credono che noi vogliamo con i like che condividiamo ragazzi voglio dei 95 like a 90 a 90 a 90 ehm ecco non è non è no ma non è ma ma non è ma ma ora ci fa sto balletto quando c'era giova qua mi s'accenta di masino a lei grande che chi momento la raga 90 90 like mettono la passura siamo 87 stile like quando accusa anni che lo fatto che giova mamma mia che non c'è un minaccio che è un bel serpente bello non è lorenzo è bello che non è la mia con un po' di tempo a bucchio grazie a lui però non ti muestro poi hai te vedi casa piccola di guadagnia senza salsio alfa lonti faccio che stasera la cina gente ha detto in un video manaccia con loro frate ma c'è un bel like bro o luce ma si ma fomento lo diciamo sciatta insomma teneva giusto ma te fatto attimo sull'altro social ma è passato ed ex ha dovuto al nero o lorenzo nuovo aperto amovare cani tra solito mario ora si traslato oggi è asciuto o se già stai non lo so perché mondi in casa ragazzi forza siamo scesi 86 ragazzi vai mettere stile che la gara 90 like allora password codice poi diciamo questo codice baffone vai ma non ti piace no era mettere a mettere lorenzo lorenzo ammettiamo lori vai con la ipc ragazzi lori con la y quello di grado smogral bello non so ma ci vuole tra gente whatsapp che sono ma boss andare in troppi passaggi sono più ma c'è tutta un pozzo appisato blocco ok ma ci scrivo numero mi ha toto ai ragazzi forza voglio di 90 like ragazze roba fuori non start a cazzo stiamo volando dai non ci fermiamo ora possiamo puntare 150 anche stasera mi spobinè mi spobinè mi spobinè ma fome aggiungi nel gruppo amore aggiungo ai ragazzi password lori 90 like start a cazzo stiamo raga siamo 21 se arriviamo a 200 like spaggandolo tutto mi spobinè mi spettacolo tutto questo certo certo cazzo stiamo raga sei il serio che mi ci entrare allora non va già se stanno mettendo a paura che ci vuoi? non vado a passare ti mando a passare non sai cosa la cazzo lo metto cazzo ma chi mi stai da mano? non lo leggo è bella che andava a mettere la mano si ragazzi vai passare il cazzo cazzo dai metti sta passare cazzo vai vai metto blu non lo leggo mi piace non lo leggo non lo leggo non lo leggo è bella è bella siamo a 87 ragazzi qua ci bannano ragazzi ma cazzo italiano mi pare pene come si mette la password bro scendi giù fai chiave personalizzata codice a barra metti cazzo accetti e metti pronto ma che ha detto codice a sborro no mi dissocio youtube mi dissocio questo è un ragazzo troppo con un problema fecale vado 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 ragazzi 87 90 like startiamo ce ne stiamo scendendo ragazzi stiamo volando ciò con iscriviti al canale lascia un bella e cattiva la campanellina e fammi sapere se c'è instagram brew che è molto importante se vuoi divertiti con un grande baffone nazionale scopo di scarica vengono canapa scarico di stampo ma su ma mi 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 Ehi, hai capito? Samona, metti like alla live di Baffone Oh, ma io non vengo mai cucina tua in la live, questo è ultimamente, che hanno fatto? Ma te sei un bugio? Ah? Ma te sei che faccio andare là? Beh dai Fino alle 9, giusto? Yes Nicola ci vediamo, lo sono in diretta Non ce lo fa a me Lo sono, non lo fa a me e trambi like Lo siamo, lo troppo grasso, lo troppo grasso Ci fa metterlo online A bai dove, bari di favera anche amedeo anche amedeo chiama devo si chiama ame amelia si chiama ame am via ma fa ma fa avvia cometa amedeo amedeo ma se fai arisa da malefico e che ha risata malefica sei fai poco poco ragazzi scendiamo tutti qua ma vediamo è tutti in una città ragazze di da bene qualche faccia come la giova mamma mamma mia o la nego che so ai da l'abguernic site che bucci sono fatta a me sei dicci e lì tra perché manu? ola ma è stata fatta, sì, c'è ora vim casa, io è, a te è stata tardi, oh, vai sentire a me sarei un'a vinto a me 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 poi ora ci sono ticci con un messaggio magari a scendere tutti quanti a mondo sotterraneo la grado alla tromba sì e il mio amore il mio amore è un'amore è un'amore lui è un'amore è un'amore il mio amore la cimoccia che è fatta ma che si fa grazie mille Enzo e senti allora ora ci mettiamo d'accordo con calma allora casomai io finisco alle 2 io spero che riesco a finire anche un po' prima un'oretta prima se non riesco e non ce la facciamo in tal caso a finire tutto giovedì poi finirmelo venerdì tu hai tutto il braccio fammelo sapere con calma e non ti preoccupare faccio il possibile per venire a l'una e mezza allo studio se no vengo per le due e mezza capito che finisca alle 2 alle due e mezza sto a bagnoli vado qua mo mi metto d'accordo con il mio amico ci sei due a posto mi metto d'accordo anche con lui ce lo dico che andiamo veniamo a capoccia a posto mi metto d'accordo anche con lui così ci organizziamo sia giovedì che venerdì ombra grande bro lascia un bel like grazie di cuore per il complimento della mia live vieni qua che ti diverti con noi fratello mi metto d'accordo mi metto d'accordo mi metto d'accordo oh bro io le collaborazioni non le faccio adesso lo contigo tutti mi metto d'accordo mi metto d'accordo mi metto d'accordo ah no si non è come la hand d'accordo guarda che ci sei tu guarda ti ne avevi 15 vito guarda se lo sapevo pushare Guarda se lo dovevo lo pushavo Ragazzi siamo a 88 Dobbiamo arrivare a 95 Totò che è successo Totò Totò Salvatore dove sei? Non ti sento Totò Totò Come faccio a partecipare? Ciao Alessio Iscriviti al canale Lascia un bel like Attiva la campanellina Fammi sapere se c'è Instagram Bro Ciao Alessio Cosa ci sei? L'ora è o baffo! Che succede da noi? Mi ha detto baccariello! Ma andandi so vivi andandi so vivi a cc. Seppur a ciova! Che succede? Ma sono a vivo io! Ma a me non mi interessi da già distruggila a te! Ma sono vivi! Grazie adesso! Va a me seguire su Instagram baffo più 21! Baffo non vedi che è rimasto? Sono un mio amico che tiene 15 di vita da un'ora e mezza e sta fatta a quattro e loro Vedi che è rimasto? Vedi si è rimasto a ciova! No non è rimasto non è rimasto È morto ciova! Allora ci sono poimi! Vedi mi chiamo baffo più 21 alessio a me a seguire lascio un bella e cattiva la campanellina perché così rimani sempre aggiornato sulle live di baffone Ok tutto tu! Baffo sono in tre non abbandonare la partita Ma perché mi sta curando a me a Lorenzo Ah lo sai! Ma mi manda da un mondo sotterraneo capi? C'è un похоже né? Sì! non lo faccio non lo faccio ecco paremo ora non c'è chi tolla l'ora non sai chi sono vivo c'è chi pari di favela ma poi lo be faccio vedere come si partecipa lascia il like capi alessio allora dopo di farci vedere come funziona ma sarebbe vista le busciando ti salta ma il mio amico tiene quindici di vita io devo solo una pistola e babu ormai mi è morto eh voglio so su di vado ma me e lo sai eh so su di qua io sto su di e ma la pusha va a dare ma andrà voto ma c'è fosse foto di nishu uova uova oddio uova 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 fortissimo bravo io volevo salutare a Nico che ha giocato con me ok ragazzi 95 like avviamo e forza siamo 88 e raga 7 like frattempo attimi in bagno ragà voglio dei 95 like sul sul cell ok ragazzuoli un attimo in bagno metto la password grazie 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 ciao onore Allora bro, ti devi iscrivervi al canale Lasciare un bel like, attivare la campanellina E mi devi far sapere se c'è Instagram Perché bro, sei arrivato sul canale Giusto dove ti puoi divertire Insieme a me, insieme a tutti i miei fan E i miei iscritti Va bene bro, fammi sapere Ragazzi, metto la password 95 abbiamo, siamo a 90 Password Password mettiamo Si può mettere a numeri, vediamo Non lo so eh, voglio provare Si ragazzi, password 2121, vai Ragazzi, non dite parole Ragazzi, non litigare È un gioco, ragazzi Non litigare, è un gioco Password 2121 Ma non lo so, ma non lo so Ma non lo so, ma non lo so Hai già sistemato 95 avviamo Guarda, così Ma ragazzi, password 2121 Raga, 95 avviamo Grande Lucia Lascia un bel like Cor, grazie Casa di passato Se vuoi condividere pure tu Come fa sempre Il tuo cugino Sei un numero Ce la sai Ragazzi, password 2121 95 avviamo 95 avviamo Raga Lucia, allora mette like pure Ucchida di telefono Ma fa tutto Tu avviato pure il telefono Tutto Avviato i telefoni Tutto Io non ti ho mai messo Like Guarda, c'è fino a fatta Ciao Mi regali Ulc Bro, mi devi regalare Tu Cosa a me Non c'è un euro Fizzi Ce l'hai Instagram Raga, password 2121 95 avviamo Ok, bro Allora attiva la campanellina Soprattutto Tutte Vedi Quando metti Iscrizione Sta scritto Tutte Cliccaci sopra Sì Arrivano Tutte Le notifiche No, siamo a 91 Forza Siamo a 91 Like Ragazzi Adesso Fai una cosa Buona Iscriviti Attiva la campanellina E vieni a divertirti Con noi Non pensare Alle skin Ti piace Giorera Facciami Il mio cantante Preferito Ragazzi Siamo a 91 4 like Avviamo Eh Ragazzi Siamo a 91 Ragazzoni No Cazzo Ragazzi Mettete la password Se è buggato Il gioco Ragazzi Mettete la password Sempre la stessa Se è buggato Tutto Eh no Ragazzi Vedete Adesso Eh Ragazzi Non mi dite niente Baffone Qua giù Poi amore mio Amore mio Eh Ok 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 Ma diciamo 14 Vai Oh E' visto prima Solo con cecchino Baffone Ma sei di Napoli Si Faccio Tu Ragazzi Siamo a 91 Abbiamo 95 Così Siamo a 20 25 Nessere Facciamo Tutta La mappa Ma E' visto C'è Chi Di due Ragazzi Solo con cecchino Do Andavando Prima Ragazzi Ma io Quando Tutte Le canzoni Dicene Anche L'ultima Poesia Hai Ci vissi Hai Combinato Hai Combinato Oddio 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 Ragumbi Qualcuno ha Levato Like Ragazzi Dobbè Arrivano 95 Ragazzi Bamb Do A 90 Ragazzi 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 pure male ci fa bene insieme e ci siamo sperati stare sempre insieme e te no 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 come si fa? no 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 a te scorda oh no no non posso fare si gesti per te la vanta a felicità quanto cosa 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 cioè tu sei come Deniz una canta e interrompete perchè non potete fare non potete fare ma se tu sei fatta una canzone di te man e mani mani ma te mani hai detto no a 92 vai 3 vai 3 vai carvino va a fare una canzone e mezzo vuoi poi mangiare e poi vengono direttamente in nuovo e va bene è una bella lascina ma perchè chi ha sono giga sbagliato attraverso tutti i miei che andiamo nella chamba laica sai che non finirà così sono giga sbagliato non lo so i lo so mi hanno dato si si mi hanno dato si si non ma non si 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 siamo sposati stava sempre eh siamo sposati eh e te eh auto 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 avviò una mano alla caezza una mano alla cintura eh sei guaiato sei guaiato ho già ballato ha 24 anni siamo dare la televisione le rega 30 quindi noi 25 ma quando va bucchino le migliori non ci sono mappona perché sono sopra il nome ma parlo pesciolona oh ho detto e la buffe botta oh ha detto mi dissocio ragazzi siamo 23 non riusciamo a neve più ragazzi dai mancano 3 like cazzo condividiamo tutti quanti moreno condividi che entrano adesso moreno grande alessio grazie grazie ragazzi ragazzi riempiamo il server aspettiamo aspettiamo che entrano altri ragazzi siamo 20 perché facciamo tutti i server fammi male no si non arriviamo a 25 dove facciamo no baffo mica a 25 a 25 a 95 eh però scemo se arriviamo a 25 30 persone facciamo tutta la mappa capito siamo 19 eh già no eh ma perché qualcuno io io ti amo 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 ma bo stai chiede sordo c'è 300 euro secondo me 300 euro 3000 euro 3 min 300 euro 300 euro ah ma questo c'è stato sbannato quanto sbannato? che cosa fai? la durata del tema alto 10 secondi ma tu non blocca nessuno siamo 20 ragazzi 10 minuti avvio se non arriviamo con i like 10 minuti e che stanno? no baffò avvio ooo 10 minuti avvio siamo 23 persone vissi tagliati non potessi glesii credo pare bello devo vado manda c'è stata ma fa e 60 anni allora alex e roma e roma e roma ragazzi iscrivetevi a chiudere la campanellina prima di entrare nel serve lasciare like lasciare like alex stessa cosa il codice si mette così scendi giù scendi giù chiave personalizzata r2 r2 e poi metti la password ragazzi password 21 21 21 21 ok vai entrate entrate stanno andando altri ragazzi fabbocco meno sacchi se non vedete che ne può tornare vero ma gli inizia per prima poco perché finendo un bacio mangio stumaccia scende a boia a boia non mi sono pazziati no amiche a fine d'ultima di chi lascia like raga voglio sapere se agere gere ale club club e roma hanno instagram instagram ma roma chi inizia per primo stasera ma vedo faccio un attimo gli abbinamenti che non ho fatto ha fatto il volante a gioco e ma lasceremo lasciare alec che seguimi su instagram media o baffo il ventuno si rimanaggiano sul live di baffone l'importante è che io sono 25 minuti l'importante è che io con l'aggino play perchè chi l'ho vincendo l'aggino e l'aggino perchè da città qua è quattro voto a me pensi come se è uno quattro voto a me penso di un po' penso di un po' cinque sei voto a chi? per far capire chi su chi si cazzo 3 3 3 scada coppa plastici come i cipi ma fossano 27 abbiamo abbiamo ragazzi tutta la mappa mappa alex baffone 21 21 slicky stessa cosa di seguirevi tutti su instagram ma il prossimo server 110 like dopo tornate live ragazzi ragazzi ma allora chi sta a cinopleia? a chi è a giovane? a chi è a giovane? zitto hanno contattato con maio mio ok ma chi è questo? hanno contattato a Lorenzo? dai dai hanno scritto ciao ti disturbo a it Lorenzo ciao chi sei? ciao sono il gruppo whatsapp di baffone ho 14 Had Carlito e ho 14 anni e tu вся 12 ah ok posso tenere il tuo numero ai tuoi d'animista? no è in tocca sei fortebay però ma non mi fa entrare hai tu quello mi mangiè una fotografia tua noтvo sticchio oh ministro ministro tranquillo andoni raga ma non finisce alle due torneo ragazzi perché anima e animazione diretta la voca porco di racconto tutta la mappa tutta la mappa parara tutta la mappa bro dopo la canto la canto ma lorenzo non c'è mai tavolo e guarda l'ora non parlando ma così mora coppa dove al prossimo 710 e iniziamo ad arrivare a 100 likes non lo sapevo la città ma ne città da si è morto da si è morto no la gc quando la vita a barata ma un cabana non parlo a sbaru a sbaru a s perché non è cercato ma dove non è papa potendo una di vita a uno qualche ma non c'è chi nella giornata i suoi suoi ci sia la piazza piaceva la città di 30 30 dicendo che c'è da roba così non mi cura non mi cura annaccio parato nascio parato passava no 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 ma se la fase non è un nuovo attisco già la banane che fa la banane ti cura fino a tutto è un po' è un po' è un po' la faccia siamo 20 secondi siamo 20 secondi dai no bro visto che abbiamo ancora tempo la creativa la faccio fa fra un'oretta continuiamo con i creativa non ti preoccupare che la facciamo così così la facciamo e melina come sempre come sempre ucciso ucciso che comodo la partita della vengo subito a vedere da vedere ma cosa stai insomma perché mai piace fare la mia su passa ma la radio el and collect ormai acidona g maybe non lo faccio io, non lo faccio io non lo faccio io, non lo faccio io va bene Mattei sei tu chi è? no, sono a casa ora c'è una donuccia metto la donuccia, io sono bene ok, allora va bene, non lo faccio io mangio sono morto oh, sto pushando oh, sto pushando guarda qua, ma che mi chiuso la zuppa guarda ci sfumato, vi dà a me ma grida, infatti ci sfumato una bomba nella città la città la città non ho fatto ma non sono non è ma non è non è non è non è non è non è dai 24 siamo al 99 like condividete non mi vedete la piazza baffo 110 like prossimo se non è vi ricordo oh mani sparati a un casetto un casetto ora quando la vanda il tempo 5 video 5 video o dodo si tu chissà di tu chissà no saluti ah sei qua ma non sai tu ora sto là eh eh stiamo aca stai sparando a tu no 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 sono venendo eh evidami sto qua tu sei sto qua sto qua tu sei qua eh salvaggi eh sto qua lo sciso lo sciso sto qua vieni non mi tiro ma ci sono i tuoi tu hai deciso vai raga 1 dai forza un like un like no so no so eh perché no ma è morto non è umani ah non è umani ah non è umani eh sto facendo eh sto facendo boom sono molto 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 andoni andoni quando manca per la sua chat pochissimo 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 raga 110 abbiamo lo in in si si nella all no però una eh lo baff questo ma ti hai 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 ti hai giugno tanto è tutto mappa quindi non puoi quittare boppo no è tutta la mappa non metto a carico però è baffare ci sa fanno il video dove indica è manca poco mano ma dopo vedo non lo vedo ammai coppia a baffi dare difesa la recita a chi mi ha visto vai agili guardi a coppia ecco penso che allora insomma posso dire guardi un po' la città no non è certo l'acqua ma penso a roma 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 e che buono lo so attivano giambino ciao ciao a tutti gli altri mi lasciò un bello ai cattivo caldo capo verso la città città quando ieri massimo di città città bella ciò che mai ciao bruno se nuovo sono vedendo se ci sta vedendo se ci sono come che puoi giocare iscriviti al canale lascia un bel like attiva la campanellina e vieni a giocare con noi metti la campanellina su tutte ora bro stessa cosa anche tu iscriviti attiva la campanella e fammi sapere se tu c'è instagram non credo che ce l'attireo instagram perché piccolina ragazzi martedì video cerco di fare i video del mio ammaietto di fortnite va bene che me lo stanno chiedendo in tanti prof serve si meno però devi iscrivervi attivare la campanellina e mi dovete seguire su instagram ragazzi ragazzi se ce l'avete chi ce l'ha se no mi raccomando sembra attivi ma rimanete attivi che vi divertite insieme a me con le live con i tornei con i contest creativa scuola faccio tutto insieme a voi ragazzi mi chiamo baffo più 21 su instagram bruno instagram bruno baffo più 21 21 su guadagnati o no non mi chiamo abbandonati e c'è stagione 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 io stai c'è ne so che sono c'è la città un giugno precisione un po' più contatto a che c'è l'uomo mani a che c'è l'uomo mani c'è una balla allora c'è una balla guardia ti l'ho mai seguimi su instagram bruno baffo più 21 ma mi a seguire un attimo grande ma ci non diverti nulla credimi che ti diverti qua ci si ha gestito si metto a faremo e balla allora faremo e balla ora è paolo ciò può fare poi balla allora grande è brutta grande è brutta tranquillo attivano ti preoccupare ragazzi siamo a 102 110 e abbiamo il prossimo certo è giusto non servita a chiocchia quanto mai balla la balla l'arraza bato buona da venuta e vispo fu e vispo fu a valora balanelli il biondo su guarda su grande cimapire tu hai scritto hai scritto è buono hai ragione prima l'hai citato dunque hai fatto un cattile subire 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 hai fatto un cattile un cattile subire basta basta ragazzi non si chiamano un giovane di mare non li dico devo pensare quello è caduta a terra su fortuna ma ci si è affatto oggi freddo 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 si manda me la bronda me la bronda la playstation la playstation raga fatemi sapere abbiamo anche gruppo whatsapp privato chi vuole entrare tutti i ragazzi che seguono a baffù ah raga voglio sapere martedì allora volete il video dell'armadietto di baffone o una partita partita fatemi sapere in chat ragazzi ragazzi se volete il video dell'armadietto o il video di una partita bella di baffone fatemi sapere in chat vediamo un po' vediamo un po' ma sta sempre vedendo come è che su proverso di messaggio ma dietro dietro oh baffo non so proprio scoprendo ma sapendo sempre come basta giova non lo so considero da me siamo a 3 a 1 vai ovvio menina siamo 3 per ammarietto allora fatemi sapere in chat continuate con il sondaggio il sondaggio ok bru ok bru mi sono iscritta ciao grande varinette grazie di cuore lascia un bel like tecnici ti aspetto anche alle prossime live ho tutto capito che ho vinto due volte di fila a di sciatto spesso zinesiù 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 zinesu zinesiù zinesu 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 che immagina cosa vincere la partita vero . ha vinto solo che voglia säe- dream sniper uccava fono 110 abbiamo subito il prossimo server aiutare alessandro ci non mi ma che ballare a fare nobbi ha visto un vero di favore uno contro due uno contro tre uno contro quattro i'm gonna kiss carlolis if we can E' un'esercita da Lorenzo Grande Lorenzo La nisciata da Lorenzo Qui viene qui Qui viene qui Va da baciare ci va da baciare ci Escolati Escolati Tutto da bacia l'ora bacia l'ora Ma sono delle belle stessi Sessi Bravi 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 No Passata Rautore Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' oggi molto con un bro non è gioco le rancade baffure baffure tu sei un'umidità dare a canale h che le povesi con l'ultimo zello solo che è un solo che oggi è da è proprio credo basta è nostra tua casa ma la casa ma 104 dai 110 abbiamo subito abbiamo subito si è mai fornita a rob così con soli attimo la polizia la polizia ma come parte e si perché se stanno bene 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 la vita buona p mi hanno consigliato tutti quanti video nell'arte devo fare il video del mio amma dietro amma dietro c'è un bel gioco come fare la parola non c'è una bella partita sembra ti sembra ti ragazzi alle 9 sull'altro social social ovvio ma studia fra mezzo stacco le 9 mi preparo la live su tic tocchi avvio subito mio subito a vostre 9 10 9 9 1 1 4 dai ragazzi siamo al 104 sono io non stavo nei casi vedendo come le banane gobby e portero posso giocare ciao ciao tx benvenuto bro se sei un uomo iscriviti al canale e lascia un belacca ci va la campanellina e fanno sapere se c'è instagram blu grande grande e ismanue ismanue ma fuori non mola mai ho detto che oggi recupero roma 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 già scritto giotti x perchè non vieni mai che non vieni mai ci sono stati tutto quanto senza la vita l'ultima valutino delle mani a dinamica di rami te ne ricevi di ricevi dell'ultimo e con cento di scuola buona la piaccia non è niente non è niente d'accordo d'accordo c'è una cosa madre si veniva si veniva mai giocato mai giocato ok blu allora mettiamo la pazza lì siamo a 105 110 510 se poi ragazzi delle cani e vogliate delle con gli arti della facciamo a facciare lascia la rica che di solo c'è chi di solo c'è chi no salito 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 ok Sì, è vero. non puoi recuperare non puoi recuperare bro mandamela tu mandamela tu che è successo? che è successo? che dobbiamo contenerci non puoi tu dove ti fuori? 父 non puoi non puoi non puoi non puoi non puoi aiutare il suo bombi che stava in realtà in una avvia c'è chi non so che aggeria di salchietti arrivo parlo bomba ma col pompa quando morì morda 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 mi rimane a un progetto tenisci via di cv e ma che lo scudo senza di morse di morse ma lo so non lo so oh guardi guardo vada aperto vado aperto vado aperto vado di nuovo vado di nuovo ci ripeteremo vado di nuovo ci ripeteremo ci ripeteremo sono morto guarda ci ripeteremo ci ripeteremo ci ripeteremo vado ci siamo ci siamo vai vai gigi assasi assasi mettiamo la password nuova assasi a lorenzo ragazzi ragazzi password 10 10 10 ragazzi 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 110 abbiamo lorenzo 10 10 10 ragazzi condividiamo ai amore vado lorenzo 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 si stanno rampianto lorenzo 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 voglio parlare con voi giotti può essere che mi ha chiesto i bruciati guapa foto accisa voglio parlare con voi che che ti ha dato da lei con voi con voi sarebbe con noi con voi sarebbe con noi ma non ignoranti eh bla eh bla eh bla eh raga 110 abbiamo siamo a 100 a 105 a 105 ah no ah 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 ma lor lor è che ci ok ah ma ah ma Ma questo è Giuseppano, se ne incontrivi nel chat e gioco, non c'è Ma Giuseppano, bambù, bambù È femminile Giuseppano Che è Giuseppano? È questo? No, si chiama Nick Bro, se voi, i miei moderatori ti bannano altre dieci volte Devi comportare bene se devi stare qua Forse non ne capiscono È la vittima È la vittima Che poi ti hanno messi in tema e non ti hanno bannato Ti ho capito? Ti ho capito? Che è cambiato a fare accanto? Bro Poi dici muro che ha cambiato accanto, capi? Sono bellissime, sei bellissime No, dì, 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 dì Asciughe, ragazzi, ma là No, dì, 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 dì oi guarda vai guarda entra nel ser tennis o dimmi giovani mi giova la giova il fenomeno ricordi facciamo a malora raga 110 siamo al centro ma c'entro 4 ora facciamo le belle stelle ragazze siamo già 16 c'è visto quello che abbiamo ucciso giova ad amore lascia like posso entrare nei parti blu lascia like uscire attiva la campanellina a barellina mina giovane con noi giocare con noi ragazzi io sto parlando con sapato e nepporti e perché salvatore c'è la chat bloccata accada su fortnight fortnight per il gioco tutti voi lasci fare no ci mette la skin mette la skin quando male fila piano avevano la raga 5 5 5 5 in alto dopo vi invito la creativa e parliamo ragazzi ragazzi come faccio la creativa che si è appiccicando che si è appiccicando ma ci si è capato io ho fatto una buona nonna ma raga entrate vai bella c'era x lascia bella ecco bro ragazzi fra una quarantina cinquantina di minuti ci andiamo a fare la creativa tutti insieme insieme a baffone vai stiamo a 106 ragazzi 4 like abbiamo password 10 10 mettete la password vai raga 20 25 persone facciamo tutti i server entrate nel server posso scrivere posso entrare posso entrare raga venite a giocare insieme a me nel server di baffone hai fatto rubito vai entrate nel server ragazzi per sempre giotti x vai giù entrate vai ciao sono il youtube amico ciao bro benvenuto sei nuovo baffone mi vuole mai ha detto ha detto lorenzo ha detto lorenzo vuoi staccare siamo pronti siamo pronti lorenzo ragazzi andiamo in tre città vicine no ragazzo scherzando sto sfruttendo sfruttendo al sabato da lorenzo lorenzo è ma come trovate la chiamata baffone è un po' di strasi dici in strasi dici baffone è famoso su guadagnaccio mi capite che è una compagnia la mia è accattato cinque mila po si accattate con la città con la città sabona posso entrare come la prossima però si è entrato ora ma fio più forte più forte grazie grazie ragazzi andiamo a monte olimpo e campo di battaglia ma chiunque queste sono le due città le due città uno e due e due non scendere da altra parte d'altra parte ma poi dov'è andare a difendere qua? ma fio dove andai a difendere qua? monte olimpo monte olimpo ok mi scusò non va a scendere prossimo serve 115 vai San Buonan San Buonan San Buonan buono la terra monte olimpo abbo ma fio che vanno fatta ah che si mi scendere eh si si mi scendere poco non scisero poco tania facendo otterrandi tolandi andiamo già all'info limpio si oh si la franza eh 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 ma che c'è chi ha paro nel server? ma che c'è chi ha paro nel server? ma che c'è chi ha paro? ma che c'è chi ha paro nel server? ok ok non l'accordo ma che c'è chi è qui? non! non c'è chi è dotato che è chi ha paro? la costa la costa me è giù mamma è giù? è giù? è giù? c'è giù? vanno Sì acast' con la cassa Bacchè non cassa, Bacchè non cassa A che sei chiesto C'è il giocato? C'è un'è uno i dettech? Non c'è la dalla ha No, non c'è C'è il giocato Sì, vabbè, vabbè! Sì, vabbè! NPrezi lascia, ora vabbè! Vabbè! Ma non so forte, mi sto la bolla, già ci sa Nicolo E' un'altra, è ripeto, ora è ripeto Ma non sai, stai mandando un gioco lì Lo scoprirai, lo scoprirai Oh, stai andando in noi, vai te Cunno un guadino, un bastard, eh Simo morto, teniamo una divita, tutte e due Scassolo, scassolo, scassolo Eeeh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo lui può parlare addosso, solo lui può Solo lui può Oh, oh Oh, oh No, sono morto, no, no E' morto, no, no Ahahahahahah Ma non sta Lorenzo Ma io, Lorenzo, in chat C'è nello, adiu C'è qua solo a qui, sì, ma vedi? C'è solo di scappare. Ma non è un nome. Oh, cari, mi. Toto! Ma non sta, Toto. Grazie, Rick. Sono guaiato. Vieni, vieni, bro, vieni, vieni. No! Dan. Ah, jeez, pezzi da merda. Oh, lui, si è tornato. Finalmente, vuole, mi hai abbandonato pure tu. All'improvviso. Senza che ti hai fatto qualcosa. Oh, lui. Grazie a tutti Tenis Ma perché mi romperò cazzo tenis Ah annaccia Ma quando la faccio La kill con i cecchini Quando la faccio La kill con i cecchini E' maraio Lascia un bello like Con il baffone Tu hai condivido Infatti Il baffone ti perdono Si stia incazzato questo La fatta Dodo Asi la fatta Occio Bocchino ma Ho esciuto Il caverso La nostra E vabbè ragazzi Ho fatto le mie due kill Il caverso Grazie. Ragazzi, torno in chat di gioco. Cioè, esco pure da party con Sasa e Lorenzo. E ragazzi, siamo a 109. Ragazzi, 100 qui. Bella bafforante, Katia, lasciamo per like. Ci sarà sempre la nostra Katia. Ragazzi, c'è di cuore, ragazzi. Ragio. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono a premi? No, no, bro, perché sto facendo già un torneo e quindi se ti iscrivi attivi la campanellina e mi segui su Instagram, quando fare i contest, i tornei, ci sarai anche tu. Preparate a dipendere anche di un fan di baffuto. Grazie a tutti. 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 party l'ho accettato solo a salvatore perché c'è un problema con l'audio capì sì sì la facciamo la creativa ragazzi a 130 la facciamo perché mo ci facciamo gli ultimi due server capì siamo a 111 sì che mi è piaciuto bro grazie di cuore ragà taggatemi sempre quando fa dei video anche sull'altro social 5 6 telecom di giovani sono riconosco tutte e 5 6 telecom di giovani a noi giudo ok raga vai 115 abbiamo stiamo subito la password no ermi non credo che rimango fino alle due che io faccio il torneo su tic toc e stacco raga che siamo stati cinque ore già in live c'è baffone sta con voi però su tic tac farà solo il torneo che vogliamo arrivare a riposare che poi il giorno dopo dice dopo domani ci devono lavorare a lavorare allora rimanendo a noi mettiamo la password nuova password ai 1700 ma raga passo di 1700 raga 115 e avviamo se riusciamo arrivare a 120 ancora meglio raga 130 creativa password 1700 gg ragazzi perché ha vinto e bravissimi siete tutti bravi amore mi faccio direttamente la creativa insieme ragazzi 115 e si parte o la roba fa proprio torne di video cuore sei migliore su forte grazie betti grazie di cuore ragazzi ragazzi siamo a 111 ragazzi 4 like abbiamo diciamo si like raga dai no raga è normale ragazzi ma raga ma ancora 4 like abbiamo e 4 che abbiamo poi facciamo la creativa 130 ragazzi 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 invito a tutti nella lobby dobbiamo fare la creativa insieme raga ragazzi 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 ci siamo? andiamo a quando siamo ragazzi grazie Lorenzo buonasera a Baffa Uri grazie di cuore Maria pure a voi famiglia ragazzi la pasta lo serve 1700 ripeto forza abbiamo arrivato a 115 like siamo horror visto che noi abbiamo fatto a reading mo vediamo bro mo vediamo sicuramente iniziamo con una bella zone wars una bella zona wars che ridi la mappa l'abbiamo fatto vero? auguri di pace qua eh raga auguri a tutti zona guerra zona guerra raga password sempre 1700 però dobbiamo arrivare a 115 raga per startare vai può essere pure la creativa la facciamo a 120 ragazzi dopo sto server però forza mettiamo sti like raga è importante è importantissima è importantissima ci siamo? no 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 raga siamo a 113 due like avviamo è mai facciamo tutti i server o da un ecco la bucchino e mamma di drif dice fatto un bocchino amore attendo sangue in danno c'è sia o cacchi testa la morte che da dammi la borsa chiamata molto rispetto per vogliono canzone buoni di morte non ma non muore cacchi testa la morte che da dammi la gora avvenuto gradi dice accanto di morte non cazzo sotto a fai da un vario cazzo io da un epato di tagliato e che la cessa mamma di grada dai cacchi da morti ragazzi scusate ma ora ci vuole la passiva di giurtenere capa rolamo ci vuole i creaturi soffrono e famiglie soffrono sti nordisti sciamo e sicuramente solo i nordisti fanno così da un già che loro usurdo di tutto il luogo è meglio non metterlo ai malati in mezzo e le ma la passiva dei coppacchisti nordissimo mi usurteno come sciamo avrei ci sono regole bro devi scrivere lasciare like attivare la campanellina e puoi giocare bro fammi sapere se c'è instagram entri a giocare con lui giocare bro fammi sapere se c'è Andai Luigi No ragazzi mi da fastidio che mettono le malattie in mezzo Cioè non mi ha curato la malattia Ha detto down no? E down è per i ragazzi che Io sono buoni Noi stiamo buoni capi? Allora che lo fa fastidio E queste le usano al nord Perché il sud non usa queste fastidio Non mette le malattie in me Perché al nord sono mongoloidi Non tutti quanti Dico queste persone qua Che parlano così Sono solo al nord Che al sud Cioè gli diciamo Diciamo le parolacce Ma non mettiamo le malattie in mezzo Cioè fra di noi Sud e sud sì Ma noi che chiamiamoci uno nordista E diciamo ah tu muro No Sì ma così Perché ora c'è il sud del nord Parecchi del nord sono fritti È caso vero Perché tu non puoi curare una malattia Parli con una malattia Di cui io sono una persona normale Capi? Cioè io sto bene Ci sono ragazzi e mamme che soffrono Su questa cosa E muovono a 30-40 anni Capi? E down E l'ha gipputo pure in famiglia Perciò E se le frasi le usano al nord Non le usano al sud Che al sud Cioè bufano i chiti e morti E non auguriamo il male Capi? Chi sa con fra E poi Danno sempre Napoli a moco O sud a moco E ripeto ragazzi No tutto è il nord Però sono frasi che si usano al nord Quello è un ragazzo del nord Non è uno del sud Capi? Mo c'ho Che poi c'ho anche i fan del nord Quindi mi raccomando Non capite una cosa Per un'altra Oh ragazzi Tanto lui ha detto che c'ha Di ci accanto Se torna Funimmi buffi parole Ma per esempio Oggi come Stavamo stamattina Ho commentato A una su Instagram Non mi ha risposto più Che l'ho distrutta Ciao Bru L'ho distrutta Ciao Bru Perché parlava di Jolier No? Di Jolier Se cose qua Cesso Io l'ho commentato E indovina come mi ha risposto Cioè ragazzi Indovina Se questo era del nord Era milanista Come mi ha risposto 104 Cioè Un frasi 104 Quindi una gente pensionata Che non sono buona Che capo Allora queste frasi Le dicono Alla maggior parte Al nord Capito? Cioè Posso capire sud e sud Cioè Buffamme parole Ok Però noi Teniamo qua Non puoi appicccare Ma parliamo pure No? Invece al nord Cioè La prima parola Sono le malattie Cioè Che le vado a fare Il passaggio Pagano in bestia Su questa cosa A piazza Sì andiamo a piazza Ti capi? Sì sì Nei modi E proprio perciò Sono il panno Che passi fatti Che san marino Ma commentate Che raga Poi l'ho distrutta Non mi ha risposto più Io ho fatto un papillo Che l'ho distrutta L'ho mandato in coma Ma guarda Guarda la cimana in coma Sì andiamo a manca Che la gara risponde Andiamo a un coloide E l'ho qua fuori Ho fatto uno bro Io un po' Wow Ci sono due di loro Ragazzi 120 creativa Mi sono dimenticato Ragazzi Tutta la mappa Bro Si è preso la scheda Scappa Scappa Tutta la mappa Vai facci Scudello Dice Mannaggia Ma non vuole Disci No Sì Dovevo dire Che era Tutta la mappa Che Eravamo 23 O 22 Persone Capì No Dice Ma Restare laggiù Dove vuoi Che dire adesso Ragazzi Dopo 120 Zone Wars Con baffone E guarda La prossima volta Non muovino A push Non accusare Bucchino Come detto Prima Sia morto Io sono vivo Adesso sono io vivo E tu morto Hai visto Il karma Gira Scappa Scappa Bravo Ti stanno pushando Ah vabbè Vabbè Non è per te Vai vai Dove ti resto Baffone Ah sì Lore Bru Se riesce A cupo cancello Se riesce Ci proviamo C'è troppa gente Oddio Ci sono Lorenzo Salvatore Vabbè Bru vai Dove Voi Tu Non ti preoccupare Io Sto Non Dove Sto Tirate C'è Arresto Ragazzi Avete Capito Il discorso C'ho Maggi Incazzate Già Stamattina Ci mangi Appiccicare Sempre Uno Del nord Anche Ma ci stanno Anche a sud Che ci senti Commenti Tutti C'è Capo Vabu Commenti Che la vita Di crescenza Tutto Stanno Stanno Ucciso Sono La scumma Dei fasulli Di napoli No Però C'è Sembra Queste Queste Cose Brutte Tumori Mali Problemi Mentali Ragazzi Da Un C'è Noi Siamo Sani Di Mente Capito Siamo Ragazzi Che Siamo Sani C'è C'è Stanno Che Soffro Veramente Capito Ciò Va Compre Come Puoi Giocare Bru Ma Cristiano C'è Non Lo So Cormi E Questo Baffone Incazzato Non Ti Fa Curare Tranquillo Broco Aspeto Di Medivare Il Tuo Nome San Gen Capo Bravo Esce Esce Non Nome Te Bravo Luigi Cura Di Cura Di Prima Non Non Volare Speriamo Che Nessuno L'ha Visse Prima Che Stavio Fottuto La Corona Que Baffone Che Chi Raga Dopo Creativa Mi Raccomando Vai 120 Like Voglio Vedere Anzi Fatemi sapere In chat Se volete fare Un server Prima In Islava Un server Nella lava Prima Prima Che Faccio La Creativa Ciao Fra Baby Lascia Un bel Like Bro Grande No Che Cano Ragà Voglio Sapere In chat Se volete Fare Un server Nella lava Tutti Quanti Raga Scrivete In chat E poi Andiamo a Fare La Creativa Ti Resto Qua Va Bene Ma Affoga Non C'è Nessuno Vai Va Bene Va Bene Sai Sì No Ragà Non Eliminate I messaggi Per piacere Se no Si riempie La chat Che la Gente Si è Lì E poi Il suo Curso Dopo Facciamo Anche L'altro Curso E poi Stacchiamo Ragazzi Che Nessuno Ha Luttato Così Puoi Luttare Qua Tu Da Solo A Posto Ma Tu lo Fai Torneo Bro Io Eh Io Il mio Team C'eravamo Qualificati Ma Allora Fa' Una cosa Dopo Vieni Sull'altro Social Logo Capito E ho Visto 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 Vado Vado Vedere Vado Vado Eh Va Giù Si è Buggato Tutto Marone Lo Joystick Mannaccio Ma Ti Sparaccio Annaccio Bro Eh Vabbè Eh Si muo Guarda Ti Sparaccio Guardate Un po' Si è Buggata Tre Orso Già Sick Vado 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 Bugga Vado 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 Blu sniper lo so lo so lo so vabbè che dobbiamo fare tutti i ricordi a gughi a gughi a umano come si ama a franci quando se te lo ricordi ma baffo e ti senti ma tu sì sì tu ti eri segnato tutto ci sono tutto segnato è tutti i nomi vero sì io mi ricordo il mio compagno uno dei miei compagni non lo ricordo ma io gli altri non li conosco e non me li ricordi no vabbè mo di invito io mo appena vado in live alle 9 9 un quarto capì ok torneo si fa su un altro social ma fai sempre su youtube no solo all'altro social su tic tac tic tac tic tac ma tu questa live fino a che ora la fai fino alle 9 poi stacco un attimo il tempo che mi organizza a mettere la roba per fare la tic toc faccio gli abbinamenti del torneo e ci sono rispongo pure a dei messaggi che devo rispondere che mi hanno contattato dei ragazzi che fanno il torneo posto torneo no ragazzi torneo già stato avviato abbiamo fatto i provini un mese intero abbiamo quasi finito stasera finiamo il prossimo torneo lo farò interzetti ragazzi lo anticipo facciamo i provini diciamo le qualificazioni diciamo per diciamo la prima fase è finita da un buono sì sì però visto che mancano dei ragazzi visto che tu sei un ragazzo che mi segue sempre io che faccio quindi perché sono passate se ne sono andati metto i miei fanno che mi seguono quindi tu lo fai con google e francesco stasera alla sera io durante la settimana non tu fai le live durante la settimana sì le faccio il venerdì sabato e domenica ancora poi appena inizia l'estate pure le faccio pure l'estate ci sono il venerdì sabato e certe volte la domenica io durante la settimana non gioco mai ok proprio non posso non è che infatti non mi devi venire all'estate tanto io io stacco poi prima delle nove test che ora 85 arrivo subito chiede mio mamma solo quando mangiamo per organizzarmi si tranquillo da raga siamo a 116 120 facciamo facciamo sto server in lava e poi tutti quanti a fare la creativa poi stacchiamo e avvio la partita la c'è la live dimmi attirio me l'hai mandata sulla playstation attirio la richiesta sì ragazzi server lava facciamo l'ultimo server ragazzi poi tutti in creativa in dog wars finale 9 mi sente bovini in quell'altra chat mi lancia metterta waller attravo grande nostro dragone ragazzi il dragone alato di grado c'è anche il dragone il dragone 999 il dragone fa 999 la popolo fa così no no da posto amore mi si è mancato sai come ti sei da essere un uomo è merda bravo importante cosa sei se non mi è merda ehi quando dici che cosa a tutti mi piace la sincerità a me mi piace la sincerità capisci quando c'è raggiamento tutto questo c'è un canno ragazzo facciate un buccato all'occhio almeno a breve hai parlato come si chiama francesco no 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 ma tu zippone proprio tu un cazzo bello è pure che la farà giù il cielo di prima c'è vicino scusami non basta questo sto mangiando ah capisce sto mangiando oh ma dove sei cipattano e vedi ho qualche Ah puttana Se guardate chi può essere dragone Mannaggia Mannaggia che lupurando buco Che la c'è insieme E la grande bucchi Ah 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 La c'è mia moglie non una guarda Non va così dando un po' il capito C'è che non trova mai Fatti un po' più là Quando la vira passa Passa e se ne va Ui Che è successo? Non è spesso Ehi Niente Ma perché sei volgare così volgare No 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 come si fa No 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 scusa Facciamo cantare Facciamo cantare No 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 E scusa Non è spesso Non è spesso Che all'inizio la storia E alla fine la storia per me Uccide se stai guardarne quando è giove Perché si è dispiaciuto per me E per te Perciò ma se ne zia Niente Tu sei una grande troia Ah Denis No Zinni Shun No no Ok Oh Stani qua Stani qua Stani qua E qua di in tal live Stani qua ho ping pong qua Ah Cosa Sulla Fai guardami 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 B accepting We are right here Where came he? ci metto l'ex o l'ex appisa lì c'è il seno a giudicare il luogo questo è il seno che aveva bisogno di amma pariettana lì sì sì che magari va ma scendere indi sicuramente in mezz'ora non risolva mario a a pubblica copyright che non so c'è perché hanno fatto black back la saccia giocante ma va metti possession a cappuccia cappuccia un piccolo in griff della mario a più non mi sono nabì perciò mariana una saccia canzoni mi spiega sulla gioia la savana vai ma che sai che se storico oh ma se l'hanno sputtuto a chi lì la oh hai capito? hanno sputtuto a chi lì la giove e un bambino se l'hanno bagnato ragazzi non si fottete prima giocatevi la partita e divertitemi nooo mi piace diversa cosa vuoi amoremi più forte grande coro bravo ragazzi 120 abbiamo la creativa vai 120 ragazzi oh hai visto che andai già bambinato eh bravo amoremi potrà di tu come Daniela poi Daniela altri modi nooo 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 noooo ragazzi ne scemo proprio ragazzi 120 vai vi invito tutti nella creativa ragazzi tutti a giocare con me vai però dobbiamo accendomi i saluti c'andrea lascia un bel like bro andrea senti se vuoi un saluto da baffo dei pagare 100 euro e vado progetti ma di ragazza 117 vai 3 like vi invito a tutti ragazzi quella che vivi da a buon mimo abbassato su gai auto disco marmo legato quando stiamo a casa ma c'è la 173 lei che invita a tutti ragazzi e like ma come giocatore luigi ora siamo parati faccia chiamando 2 cosa fa l'azzeccata grazie a 17 avvio ragazzi cioè 120 avvio ma non potresti a tutto quanto se con mamma fa tra simi da partite e poi l'altri fanno partecipa alla partita da vi no in questo gruppo ma ci mettete sul l'amblifon betty ma perché tu c'è il pc non c'è la playstation come partecipa bro iscriviti a casa lascia male e cattiva la campanella viene a giocare con lui vai se vuoi tornare gli devi donare 104 se vuoi giocare ma io e su scena oggi stanno un sacco di loro che non parlano che non c'hanno il microfono baffo ma tu faccio io copio no 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 amore mi fa più spiace ma adesso c'ha mamma mia ah lo so aca ehi mamma mia ehi metti metti che ci mi piace mezza brasiliana una prima no processione o amore mi metto lai cavi no ovvio però no modo c'erano a poco ma facciamo un po di ragione che si chiama farà di questo pagina e coppa youtube meccanata proprio la mia famiglia scherzando amore ti preoccupare allora io amo alle 9 stacco su youtube un quarto dura 20 minuti attacco su tik tok vabbè ma sono di casca d'amici bravo amore mi e fa mettere la che mette la cattito one ciao a ormi a dopo oh amore mi ma dimmi una cosa è todore c'è sacca oe no dodore o miglia a spiega bufò ma non si intorno di moduio è giocato di musulia di merdi capito qui stai santa cosa stavo cristiani mai discutere di san allora si vede tu che cosa valore facciamo così come ha detto luigi allora come come si fa partecipa alla partita e ma devo aprire qualcosa devo aprire no ne fa niente sicuro si chi ha la tua amicizia partecipa alla partita ragazzi entrare tutti nella partita ma perché non ci siete voi ragazzi non ho capito le vostre squadre non ci sono ragazzi scusate come cazzo faccio mi sto torna vai giù faccio la matita faccio vedere come non l'avessi mai tanto faccio vedere in battaglia reale le sue parole ma il giorno dopo c'è non provo a ogni che faccio uccidimi e farmi risorgere come un lazza la mia tutta ho dato stato puro ma che stai dicendo su qua ma non ci sono state pronti non so io frate vado a levami snap t ma se di che snap mi hai no ma non so no basta basta si vede la mia tutta è prima no no non è buona no no non è buona no no non è buona ultima volta mamma muoca tira fuori ti va bene aspe fammi invitare a tutti buongiorno no 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 che dentro in mezzo prima che tu sia capo oggi adesso mi danno tutto è entrata buon uomo maronna ragazzi chi manca ma c'è tirava e l'amicizia sì ma come 22 22 45 allora o amormi tutto a posto ragazzi ma chi si chiama ragazza ma non è già abbattuto e non il giro di il ma fa ma fa fuori e lo c'è chi la cia 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 mamma mi gioco a duro sulla playstation in chat l'amicizia alessia mi senti mandatemela sulla playstation perché su epic c'ho troppe amicizie chi ovviamente c'ha la play che non ce la me lo dice è giova ma non ci stavano i due scusano non ci stanno perché ora non sono in line si si modo con il condatto io no no ma ci stanno ci stanno di lo suo modo con il contatto e giù crude veggio va si si vince la carta è un grande baffo grazie ragazzi voglio bene lascia un bel like bro ciao nissan cianotto raga lasciato un bel like bentornati ragazzi di donare anche voi che babbano reale ragazzi questo gioco che gioco è che gioco non starsi tutti quanti ci gioco ma è una moda sì lorenzo la nerizia attiva la campanellina poi sai non ti sento ci stai ma siamo sarò che so chi ne c'ha tra già risponde fatto non era nulla ma chi è comunque l'amico tuo che ci insultava solo una volta c'è ci ha uccisi è la casa padone e forte però a giù a prima volta che si muoviglia proprio è pure lo quattro vincita di me la bella studio aggisito quando brava questo trovano un attimo i ragazzi qua mongra non lo trovo ragazzi non c'è poi andiamo avanti lorenzo beretto mi stia invitando brodi di metro line sulla play perché sembra da rimesso di sulla play non stai online bro siamo se questo quando se questo siamo a te ce l'hai l'amicizia di bar amicizia del mio amico vabbè dopo te la faccio di aspetta un attimo bro la play è vero qua tutti gli altri di vengono adesso ma è così ciao 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 mentire del torneo che cosa no no non ci sei no è perché io non tengo nessun amico vai uno di uno ah no un altro un altro un altro un altro un altro vediamo un attimo c'è il danno da godito oh il godito il godito si ragazzo alla fine siamo divertenti no ragazzi direttamente la card ma la card come c'è da in privato ci scrivi il mio amico non c'è il tuo cosa la tua amicizia sulla feste basso il suo amico zappo provare unisci di allora manca fra i bambini vabbè sono shanking e manca la richiesta di fra baby ma poi era da mille vi bacca la gara si mille vi bacca manca matteo e free baby la 2d1 sta facendo questo stavano vinto la gama andate mela voi dove la vede sulla me la vede mandata sulla play o su epic se avete la vede la vede la vede ma ancora mandare perché come si chiama la sua play però non mi dice che sono verificata per loro è un bagno ma tu adesso tu lo devi mettere sopra sopra dove vedere persone online game basso che cosa il torneo è trio noi a squad ok su epic ditemi chi di tutti ragazzi allora dottor grande è staccato dottor dottor sennò farmi a città inizio vogliamo manare che stassi guagliano stare in da chat piace e l'invito vedi ci sta frebb e bica e battolo di 13 nico abc e matteo settare a 13 ii ci sono pure gix plus way e giù ma nati marì chiesto ora caro pc di più veloce capi e la raga mandatela di uno den raga mandatela di uno del mio moderatore si fa entrare l'unico ragà devo levare qualcuno settimana prossimo e faccio ma la daniele daniele giovane vado ora ci si può volare l'alanda siamo inguaiati capito capito chi è il giove mamma mia parola guarda che nico va nico già lo tengo però non lo trovo per me non lo trovo questo è il tuo sorello il tuo sorello non si chiama rossi qui oh 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 come i gelati li ha finito che senti i gelati li ha finiti ma comunque ti sta dicendo che hai più visualizzazioni e vuole portare blues stars però come lo fa a portare perché tu c'è tipo la capota di youtube con la capola della playstation eh quello è fatto capito? eh perchè è il mio appuntito la capola della playstation che è diventata a twitch dai ragazzi dai allora tra poco sopra l'altro social ragazzi Sasa non ti dimenticare il like bacco, bacco va bene maestro, ragazzi, tutto il tocco, basta che uno del vostro team ci sa, quando è su youtube serve tutto il plot io faccio questa partita e poi me ne vado a casa oh yeah grande sa, sì, 120 grande ma quando si fa il tonno quanti team siamo? quanti siamo? eh ragazzi, non riusciamo a fare, facciamo direttamente dai quarti mancano due squadre, non la facciamo la facciamo di finale lui c'è stato eliminato, amore mio siamo una cinquantina di noi no ragazzi siete ah poi 12 squadre ma conti, aspettate no, 12 12 squadre 2 2 o 4? 12 squadre da 4 12 squadre da 4 ah è 12 per 16 no devi fare 4 per non devi fare niente 12 siamo 12 team da 4 eh siete 48 giocatori dite totali ah ok mo si no rega ti mazzo no no allargo ok chi è che ha detto non ho sparato no 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 faccio piatto oh oh sta tutto a griffare il cuore sacro san genio il cuore sacro san genio dopo un solEDO cop 해 oppure oh oh parliamo di caccia proprio la video di cui lì c'è un sacciso io parlo no ragazzi l'ombra mandamelo sulla playstation è già l'ombra 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 c'è l'ombra a lei delizio moderato si è moderato no non parla di tutto ma che stai facendo si è buggato a giù guarda lì da live ma io magari non puoi andare a cimino ci siamo ultimi 25 minuti di stone wars così bro bc trattino basso baffo più 29 ragazzi la parola la facciamo a fare il nuovo si bebbe lettrano maria erbe siamo pronti ragazzi cambio sull'altro i shall die si sa si dimmi il tuo di che baffone si è dimenticato no 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 ma sta iniziando a chiopero baffone volevo la cina di cantare siamo di napoli possiamo dimonizzare i suoi lavaci oh quello so che san gennaro quello so che capo cian giannaro è arrivato il cicciolone la bucchio ea non è guarda 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 ascoli no no è non il sielo cittadino voi vedi il suo percorso per tutti oppure senza la no si va sopra l'altro social tra poco ragazzoni da poco alle 9 stacco datemi un po di tempo che si siamo delle cose e attacco la like morta nega che la legge dubbi simili precisi attenzione totoro contro denis no sbagliato e non vincite bucchi nasce assurando vita e morte di testa morte chi ha guardato a testa morite volte non mi dico gli atto trovare un bacio tutto dirò un liceo su ciò quando i valessi cursi però detto un ghi del apporto c'è la faiata asciutti maduri da battagliare al mio capo questo cosa quando hanno danni calabasci che lui quello si usa per questo ci sono molti streghi ultimi ultimi venti minuti di fuoco no io guardo ragazzi sì ma non abbiamo capito anche la mappa buona paraca 20 minuti di fuoco e poi si va sul finale del torneo ma fuori ma fuori ma fuori ma fuori ma fuori Saro sempre. Jake's a blush way. Jake's a blush way. Sono armio! Baffo! Devi morire! Devi subire la mia ira. Ah, prima di merda. No, com'è possibile? Annaggia, mano. Questo è un po' breve. Perché non fai headshot? Perché non fai headshot a me? Perché? Votorino! Date cazzo! Date cazzo la bella! Come si fa? Date cazzo! Dette che mi uccideva, cioè, era un figlio d'unzano. Tu ti conto a Deni, si attenti. Ma poi, andai. Beh. Adoro. Ma stanno a te, mi hai chiesto. Ma è possibile? Eh, vai, è un bug. Non doveva essere questa cosa. Sono capitati Denis e Lorenzo insieme. Inutile che dice chi sta perché non sai una città, hai visto pure tu Tutta Napoli è distrutta, vesù, Vierutta Tutta Napoli è distrutta, vesù, Vierutta Guarda che è una RxSG Sì 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 ragazzi anche Salvatore Allora fammi vedere la prima capitale, la capitale Più forte È inutile che piace, è deciso Se me lo facesse fare il gioco, porca troia, potrei invitare, se me lo fa fare Ma fuori mi senti? Sì ragazzi, niente, era tu, mi fa salire sopra, è buggato forte Ma fuori Ma fuori quanti ecco sarà lei? 121 ragazzi abbiamo spaccato, avete visto? Siamo fortissimi Non ho capito che vi è successo Sì Però ho capito che è successo lì Ci sta a mese Mamma Sì 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 Ho trovato 9 colpi per un'arma E' 60 Oh, lasciamo il mio motorino Sì Ciamarosco ciao luca non faccio i provini bro non li faccio oggi guarda dalissimo di scuola che dopo un piccino sta stupendo la dieta piacere e puffetto ma piaciata d'oletta l'agio per accadere nuova sono fatte pure il secco non ti guarda sono una donna che ti guarda di un po' di merda sono una donna che ti guarda di un po' di merda cazzo grazie andava dove da ci mannare ragazzi la piaccia a chi deve accettare ragazzi si ma te ma tu sei da pc devo vedere come fare matte la tastiera ragazzi il torneo lo fa solo chi ha fatto il provino ragazzi ribelli il prossimo però non puoi fare non ti preoccupare l'amico se c'è amici per giocare ragazzi ragazzo non lo può fare solo chi è passato perché sono un vale per gli altri ragazzi che sono usciti però facciamo quello la facciamo con la terzetti ragazzi non preoccupare ma due occhie fatti provino ma che stava la spesa ciao ciao le fattissime a ci sono pure a black e cosa la blotta e si ragazzi sono eliminazione diretta quindi sono 12 partiti mi pare e ma no a te stai 12 partite totali ciao marcello lascia bella ike raga sono sempre cinque round poi la finale si fa 10 round fatti 12 round quindi 12 per 5 su 60 ragazzi mi manda seguitemi su instagram che ho già seguito io ho già seguito poi ti ho seguito ragazzi mi manda seguito ragazzi 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 vogliamo dire che ci sono come cristiano giustano ultimi nove minuti ragazzi così ti aspetto tutti sull'altro social ragazzi la prossima ci divertiamo con i server la creativa la squad come ti senti e valore ciò dico un altro che non lo sanno più ragazzoli ditemi denis ho dovuto fare tutte cose che cristiano gestare che la squadra dove passi pure il turno ma tu puoi editare i video usi il computer e poi dal telefono perfetta l'hai azzca oh no mi scusami non ti ho visto la roba mamma mia mamma mia è cominciato a guadagnare la mia mamma mia proprio scherzo il suo agio mamma che giocato non è fatto da butteghevino non è fatto da butteghevino ma cosa ragazzi torneo torneo No ragazzi però il prossimo lo fate non vi preoccupate c'è sempre il prossimo Raga mon stack lo faccio perché c'è un sacco di messaggi quindi mi concentro meglio quando stacco la live Fede che succede qua? Piaccia dietro, qua c'è la trappola Ma io dopo l'ultimo round vai Ma che chi l'ha fatto? Mamma che chi l'ha fatto tutto tutto mamma mia mamma mia mamma mia Dennis 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 Morto Dennis, guarda un balito Grazie 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 se torneo per i qualificati ragazzi ma il problema è che ma perché tu con chi stavi con GXB Swain Black e Gabri eh, ora mi contatto io a Gabri a Black 10 round ogni ora facciamo no ragazzi 10 round ogni ora poi mi faccio vedere la prima di aver live pesce, saltati ti faccio arrivare a 10.000 like grazie ragazzi ma tanto su tic, su tic ma come hai scettato ma come hai scettato ma come hai scettato guardiamo ma non lo potresti fare capito? si è meglio vai giù io inizio ad uscire mi organizzo un attimo vai giù capito? attacco su tic tac vai giù vai giù ma hai scettato tu tra pochi minuti tra pochi minuti un po' di minuti sull'altro social va bene? va bene? va bene ma sembra fare il torneo a dare un video e lo metti su tic tac ragazzuoli io scappo vabbè ci vediamo dopo voglio bene a tutti quanti non tengo le armi kingo kingo non tengo le armi non tengo le armi si raga ma facciamo le fasi finali vai ci vediamo dopo voglio bene un bacio grazie a tutti pure per stasera voglio bene ciao ciao ok siamo venuti a prima ragazzi ragazzi ci vediamo tra poco pure in chat ragazzuoli ciao sasi ragazzi ci vediamo dopo va bene ragazzi vi saluto vi ringrazio bacio a tutti quanti noi ci vediamo sull'altro a dopo ragazzi grazie di cuore a tutti voglio bene a tutti quanti denis già sai pigelo sempre allora non è cosa tua vai giù facendo la babba che ti fate sempre schifo scimaro troppo ma fa che ora la fai ragazzi tra 20 minuti dovrai stare live dove un attimo finire un paio di cose gli abbinamenti e ci sono va bene tra poco tra poco tra poco vai ci marocco bacione a tutti uno facendo la babba la fai sempre schifo vai giù sempre os doiz ok